Ed eccoci, eccoci carissimi all'ascolto dei 94 MHz di Radio Gamma 5, l'emittente davvero evolvente che smuove e libera la mente. E dopo il sole di Nelly andiamo avanti con il sole di Elio e Corrado e siamo dopo la pausa del 16 agosto dove appunto non abbiamo fatto la trasmissione con la ripresa della nostra trasmissione quindicinale del lunedì dalle 18 alle 21 e 30 appunti di antroposofia e mondo altro con l'augurio, nonostante tutto quello che sta succedendo in questo mondo strano, di una felice serata per questo lunedì 30 agosto 2021 e sono le ore 18 e 8 minuti circa con un bel saluto da parte di Elio e da parte di Corrado. Corrado, ormai qua è da metà luglio che gli ascoltatori non sentono più la tua bella voce. Certo, mi hanno rapito le undine nel mare Tirreno e sono riuscito però a fuggire da loro. Salamandre non le hai incontrate? No, salamandre no. Solo le undine? Sì, sì. Vabbè, allora avrai una bella carica adesso dopo un mese e mezzo per affrontare il lavoro di questa sera, anche perché si riprende con un argomento bello impegnativo ma secondo me molto affascinante che ha a che fare con uno dei più importanti accadimenti misteriosofici dell'umanità e che affronteremo tra l'altro con l'intervento di un ospite d'eccezione che andremo a contattare tra poco. E diciamo intanto il titolo di questa serata, di questo tema che affronteremo questa sera. Il titolo è Il mistero del Graal oggi. Siamo all'oggi di una umanità umiliata e vinta o all'avvento di nuovi cavalieri solari per la conquista di un Graal di nuova coscienza? È innegabile almeno per quello che è parte di umanità che si pone domande, che incombono scenari preoccupanti come quello che si sta manifestando da quasi due anni a questa parte dopo, diciamo così, quelle figure umane grigio-oscure che da sempre, diciamo così, prendono il potere che io un po' così, mi piace così pensare a quei mostri, diciamo così, gli orchi di Mordor, no Corrado? Sì, oppure anche dal film Nomo mi sembra, che c'erano gli uomini grigi che stavano consumando il mondo, non so se è presente. No, questo no, è presente. È un film, sì, credo che sia lo stesso autore di La storia infinita, Mikael Ende, se non mi sbaglio, no? Che ci sono gli uomini grigi che stanno distruggendo il mondo, ecco. È proprio attivente quello che sta succedendo, questi qui sono quelli che hanno in mano le leve del potere, insomma, ci stanno soffocando, è proprio il caso di dire, con questa pandemonia ben congegnata, però, diciamo, adesso c'è questo gatto verde che bisogna avere per entrare nei ristoranti, come si chiama in inglese? Green Cat. Green Cat? Sì, Green Cat. Sì, Green Cat. Ah, non è il gatto verde, allora cosa vuol dire? Eh, appunto, sì, il Green Pass. Ah, il Green Pass, va bene, passaparola. Esatto. Va bene, noi adesso ci scazziamo un po', però è veramente una cosa drammatica. Sì. E purtroppo la maggioranza, ad orbe ancora, sono i profondi, ma questa situazione di dolore, diciamo così, di allarmante perdita, di libertà e dignità sta portando sempre più persone però a porsi interrogativi e vanno a ingrossare, per fortuna, le fila di quella umanità che cerca di pensare con la propria testa. Certo che, così, a uno sguardo, un primo sguardo, si rileva che chi sta dominando i destini dell'umanità siano queste forze oscure che ostacolano e opprimono in tutti i modi l'umanità, ma si sa che sono presenti anche le forze della luce, le gerarchie luminose, divine, che però lasciano libero l'uomo e qui, essendo, come si dice, Corrado, l'epoca dell'anima cosciente, lo spirito ci dà questa indicazione. Io direi che queste schiere della luce noi non le percepiamo appunto perché rispettando la nostra libertà, loro sono meno evidenti, molto meno evidenti e quindi noi cadiamo nell'illusione di credere che non esistono, mentre vediamo le forze negative, ma in realtà queste forze della luce, del bene, sono ancora più forti di queste forze negative. Sì, perché appunto loro ci lasciano liberi, ma qui è l'uomo e l'umanità che deve attivarsi, come ci spiega anche la scienza dello spirito antroposofica, deve essere l'uomo a volere allevarsi, diciamo così, per prendere con sé e quindi comprendere l'azione di queste generazioni. Esatto, ci vuole iniziativa, coraggio, ma iniziativa soprattutto nel pensiero. Senz'altro. Quindi ci vuole un impegno per conoscere queste realtà e il mondo spirituale luminoso, ci dà tanti impulsi e stimoli sempre presenti nella storia dell'umanità, come l'insegnamento di grandi maestri, di grandi iniziati e con eventi straordinari, in primis l'evento del Golgotha, che in forza della discesa del Cristo col battesimo da Giordano ci dà veramente un impulso, diciamo così, di conoscenza, di forze spirituali per affrontare queste realtà. e quindi diciamo che un altro evento racconto misteriosofico epocale è stato il Santo Graal e tutte le vicende a esso connesso con Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, il Parsifal, il Re Pescatore. E allora Corrado, questa sera abbiamo avuto un po' così l'ardire di avventurarci in questi territori fisico-spirituali che attengono a Santo Graal, che sappiamo si riferisce alla coppa usata dal Cristo nell'ultima cena e con la quale poi Giuseppe di Ariemetea si dice ha raccolto sotto la croce il preziosissimo sangue del Cristo Gesù. E questa importantissima coppa, portatrice di forze spirituali preziosissime, è stata origine, e penso ancora lo possa essere, di tante vicende evolutive per l'umanità di cui tanto si è narrato al punto che a volte diventa difficile distinguere la leggenda dalla realtà. Ma dato che tu, Corrado, hai avuto modo già anche con la lettura di testi così originali in inglese, di questa storia del Santo Graal, io approfitterei di questo tuo lavoro, di questa tua ricerca questa sera, nella prima ora almeno, perché poi avremo appunto un ospite importante che poi annunceremo, anzi possiamo annunciarlo già adesso, avremo con noi dalle 19 fino quasi circa alle 20 e 30, il dottor Fausto, caro Tenuto, che ormai molti di voi così conoscono, è un esperto così analista e ricercatore nell'assenza del spirito antroposofica. E allora intanto io, grazie a questo lavoro che tu hai fatto, ci avventuriamo, ci avviciniamo a conoscere questa realtà del Santo Graal e così poi dalle 19 contatteremo poi il nostro Fausto, caro Tenuto. Ricordiamo solo per chi vorrà partecipare, condividere sue valutazioni, impressioni, osservazioni, il numero per gli sms che è il 334 710 2672 e che questa trasmissione sarà registrata e portata poi sul canale Kellios di Telegram e con l'intervista poi anche di Fausto, caro Tenuto. Allora Corrado, ci avventuriamo in questo lavoro. Sì, certamente, io posso fare un breve resoconto, introduttivo, prima che parli Fausto, caro Tenuto. Allora vi do un breve, diciamo, riassunto di queste storie del Graal, che sono molto, diciamo, anche complesse. Allora, la cosa interessante è che questi racconti del Graal, li incontriamo improvvisamente, cioè appaiono improvvisamente nel 1190 in Europa con la pubblicazione di questo romanzo rimasto incompiuto che si chiama Parsifal, il racconto del Graal, scritto da un certo francese che si chiama Crétien de Troye. In questo romanzo il Graal è una ciotola, un vassoio per portare il cibo. Quindi non è ancora una coppa? No, non è ancora una coppa perché appunto questa immagine subisce una certa evoluzione nel tempo. Nel racconto si narra di questo cavaliere che si chiama Parsifal che si trova in un castello magico che noi sappiamo poi con l'aiuto dell'antroposofia essere un centro misteriosofico e si trova e viene invitato a un pranzo che viene tenuto da questo re che si chiama il re pescatore che però è ferito e durante questo pranzo a tre portate, dopo la prima portata, vede una processione da una stanza all'altra e nella prima processione vede un giovane che porta una lancia insanguinata. Ora noi dobbiamo sapere che però Parsifal, che prima era stato istruito dai suoi, dal suo centro e da una specie di monaco, gli avevano detto che non doveva fare domande indiscrete per cui lui vede questa processione e non dice nulla. Poi dopo la seconda portata vede due ragazzi che portano dei candelabri e alla fine, dopo la terza portata, vede una bella damigella che porta quello che viene descritto come un graal ben decorato e questo graal, che appunto è questo vassoio, porta un'ostia che nutre il padre, cioè il padre del re pescatore che è ferito. Ecco, però cosa succede? Che dopo questa terza portata tutto scompare e Parsifal si trova da solo e successivamente apprende che ha fatto male a non fare una certa domanda. E questo discorso qua, questo discorso del non fare la domanda, è un fatto molto importante da comprendere esotericamente che poi Rudolf Steiner ci spiega successivamente, ci spiega nelle sue conferenze sul Graal. Cosa succede? Che pochi anni dopo, circa nel 1202, un altro francese, Robert de Boron, scrive una specie di poema che si chiama Giuseppe d'Arimatea, che appunto è questa figura che si trova nei Vangeli. Quindi c'è come una concentrazione proprio in questo breve arco di tempo, diciamo. C'è proprio un'esplosione di racconti sul Graal, proprio appare improvvisamente. Prima c'è il Graal che ha a che fare appunto con questa coppa anche, a parte poi la descrizione di vari autori e comunque questa coppa che raccoglie, quella che è stata usata nell'ultima cena, si dicono, e che poi è stato raccolto il sangue del Cristo sotto la croce. Esatto. Per quasi 1200 anni non c'è cenno di questi racconti, di queste cose. No, cioè ci sono cenni di vassoi, sempre nella mitologia ci sono questi vassoi sacri, però qui questi racconti del Graal è proprio un'esplosione. È una cosa interessante che si riferiscono poi tutti ad avvenimenti avvenuti circa 400 anni prima, cioè nel nono secolo, più precisamente attorno all'anno 869. Quindi si riferiscono ad avvenimenti passati, ecco. Quindi come ti stavo dicendo, poi questo Robert de Boron scrive questo poema Giuseppe da Rimatea e lì il Graal invece diventa proprio la coppa che il Cristo ha usato per celebrare l'ultima cena, che poi dopo passa a Giuseppe da Rimatea, con la quale lui raccoglie il sangue del crocifisso e con questo sangue che gli dà dei poteri sopranaturali e lui lo porta, porta questa coppa in Occidente, anche questo è interessante, nelle isole britanniche però altre versioni dicono che va in Spagna, tramite Rudolf Steiner noi sappiamo che in realtà la prima comunità misteriosofica del Graal si trovava proprio nel nord della Spagna, che è un luogo molto interessante perché lì c'era diciamo l'incontro tra la cultura araba e la cultura cristiana che era arrocata nel nord della Spagna e secondo alcune persone che conoscevano lo Steiner sembra che il primo castello del Graal, cioè questo primo centro misteriosofico del IX secolo si trovasse nella regione della Sierra della Demanda, che è un gruppo montagnoso nel nord della Spagna. Molto molto isolato? Molto molto isolato, specialmente a quei tempi. Beh io direi, dato questo scenario che ci hai dipinto così, io mi farei ascoltare un po' di musica per proprio anche creare questa situazione con Wagner che ha scritto e ha composto appunto il Parsifal, ha scritto anche il libretto e ha musicato una musica veramente possente, quindi direi di far ascoltare alcune note di questa posizione. Ok, diamo avvio. Sì, sì, sì. Ecco queste notte meravigliose di Wagner ci introducono anche con una certa riflessività in questa interiorità anche di queste vicende. Esatto, questo era il preludio del Parsifal e Rudostania ci dice che Wagner ha avuto l'ispirazione di questo preludio la la sera del giovedì santo quando si trovava in Svizzera e appunto Wagner era la rincarnazione di un grande iniziato. Lui dice anche si chi era. Adesso non lo so, non credo, però alcuni speccolano che fosse la rincarnazione di una figura letteraria, però molto spesso nella appunto nei miti, i miti appunto che sono miti, non sono realtà, però c'è un frammento di verità per cui i miti parlano di questo mago Merlino che ovviamente molto di questa figura non è vera, però esisteva realmente un personaggio simile e sembra che Wagner fosse la rincarnazione di questo grande iniziato dei misteri di Bernia, dei misteri del mondo celtico, dei misteri di Irlanda. Certo per arrivare a comporre delle musiche così importanti, così veramente toccanti, insomma senz'altro non è uno da poco. Esatto e Wagner per quanto, siccome lui è stato molto ispirato appunto da queste storie del Graal, lui si è ispirato soprattutto da Parsifal di Wolfram von Eschenbach che scrisse appunto il suo Parsifal nel 1225 circa e la cosa interessante è che Parsifal parla anche molto del mondo islamico perché in tutto questo c'è anche un collegamento col mondo islamico. Un'altra cosa interessante è che nel Parsifal di Wolfram il Graal non è un calice però è una pietra, una pietra che si trovava sulla fronte di Lucifero, uno smeraldo, che poi durante la guerra di Lucifero contro Michele, Michele lo colpisce e questa pietra cade sulla terra e da questa pietra viene creato il Graal. Ogni venerdì santo ogni venerdì santo una colomba deposita un'ostia consacrata su questa pietra che dà questa forza spirituale la pietra e chi la contempla riceve l'immortalità, riceve forza eccetera. Però è una cosa interessantissima che Wagner si è fatto ispirare dal Parsifal di Wolfram, però non del tutto perché anche in Wagner il Graal è sempre un calice, c'è Wagner comunque utilizza il calice di Robert de Boron, quindi anche Wagner si... Finora ci hai portato a conoscere due autori, tre finora, allora abbiamo prima... Chrétien, poi Robert de Boron e Wolfram von Eschenbach. Allora Chrétien parla del vassoio, quella che ha portato dell'ostia, poi invece... Robert de Boron è già la coppa dell'ultima cena, mentre per Wolfram von Eschenbach è una pietra... La pietra che ha a che fare con la caduta di questo... Sì, della fronte di Lucifero, questa pietra più grande. Sì, sì, esatto, no? E Wagner però, nella sua opera, però lui sente che il Graal è... Cioè sente di più la coppa, ecco, per cui utilizza per lui il Graal è una coppa. Come fonte di ispirazione. Esatto, sì, 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 sì. E niente, allora più o meno adesso... Beh, e anche in Wolfram c'è sempre questo discorso di Parsifal che non fa la domanda fatidica e anche questo... Cioè abbiamo sempre questo tema che ha un significato e forse se abbiamo un po' di tempo magari ne possiamo anche parlare di questo significato. Però io adesso, se il tempo ce lo consente, io vorrei fare un po' un piccolo approfondimento sul significato più recondito di queste storie, ecco. Bellissimo. Facciamo altre due notte di Wagner? Sì, sì, certo, ok. Che ci aiutano a entrare in questa atmosfera. Certo, vado avanti allora. Eh sì, questa musica dà proprio questo senso di maestosità, dell'importanza spirituale di questo concetto e di questa narrazione, diciamo, del santo Graal. Prego Corano. Sì, poi abbiamo un quarto autore molto importante che in un certo senso continua un po' all'opera di Wolfram. E lui, questo quarto autore si chiama... ci sono comunque anche altri, ma adesso stasera io accenno solo i più importanti, no? Il quarto è Albrecht von Scharfenberg che nel 1270 scrive un poema, De Jüngere Titurel, che è il giovane Titurel, che appunto sarebbe il grande iniziato che nell'ottavo secolo riporta il Graal di nuovo sulla terra. Perché appunto, e adesso lo spiego bene questo, perché una cosa molto interessante di questi racconti del Graal è che sostengono che più o meno dopo la morte di Giuseppe d'Arimatea, gli angeli portano il Graal in cielo. E quindi il Graal viene sottratto all'umanità. E solo con l'avvento di questo grande iniziato nel nono secolo, scusate, in realtà nel nono secolo, questo Graal viene riportato in terra, questo grande iniziato che è Titurel. Però adesso io vorrei un po' spiegare questo discorso del Graal che viene riportato in cielo. Perché in questa bellissima immagine degli angeli che portano il Graal in cielo, noi abbiamo la spiegazione di quel fenomeno che si chiama Medioevo. Perché appunto nella storiografia superficiale che abbiamo noi, noi sappiamo che appunto c'era l'impero romano, le grandi civiltà del passato che avevano questa grande cultura, basta pensare ad Aristotele, alle piramidi egiziane, a Euclide che scrive gli elementi di geometria, eccetera. E poi con il crollo dell'impero romano abbiamo l'avvento del Medioevo, dove in Europa abbiamo un impoverimento intellettuale. Per la storiografia ufficiale questo è dovuto a per esempio l'imperatore Giustiniano che chiude la scuola filosofica di Atene all'avvento dei barbari, eccetera. Però in realtà per la mia comprensione dell'antroposofia questo invece è dovuto a un fatto molto più profondo che riguarda il segreto dell'avvento della libertà in Europa. Cioè noi abbiamo la forza della libertà, l'avvento della possibilità della libertà proprio perché c'è stato l'avvento di questo Medioevo. Ma che cos'era esattamente? Adesso purtroppo dovrà forse diventare un po' più o meno interessante per gli ascoltatori perché dovrò parlare un po' di filosofia. Interessante, non ha detto, non l'ha detto. Sì, Rudolf Steiner ci spiega che nel mondo antico i grandi pensatori, i grandi personalità del mondo antico, anche Aristotele, viveva una condizione che noi possiamo descrivere come viene pensato in me. Cioè, se pensiamo in Aristotele, tutta la sua grande saggezza nei suoi libri non era il suo prodotto interiore, ma lui aveva un'anima molto nobile e il mondo spirituale lo ispirava. Cioè tutti i pensieri calavano su di lui. Quindi lui viveva questa condizione di viene pensato in me e difatti lui dice che l'intelletto agente è fuori di noi. E Rudolf Steiner infatti dice che questa grazia di saggezza che piove dal mondo spirituale sull'umanità si esaurisce e nell'anno 333 si esaurisce del tutto. Anche perché, scusa Corrado, Rudolf Steiner, la scienza dello spirito antroposofica, ci parla appunto delle varie epoche, diciamo, evolutive dell'anima dell'uomo. Esatto. Adesso noi siamo, come si diceva prima, nell'epoca dell'anima cosciente. Diciamo, allora, Rudolf Steiner, la scienza dello spirito antroposofica, ci insegna che c'è un'epoca dell'anima senziente, un'epoca dell'anima razionale e dell'anima cosciente. Nel tempo di Aristotele eravamo forse all'epoca dell'anima razionale? Esatto. Al tempo di Aristotele già era iniziata la cosiddetta epoca dell'anima razionale affettiva. Sì, solo che questa, diciamo, razionalità era un tipo di razione, quella che abbiamo in Aristotele, la saggezza superiore, era più un dono che lui riceveva, ecco. E cosa succede? Che questa pioggia di saggezza che viene giù dal cielo si esaurisce in Europa nell'anno 333 e quindi, e questa è la vera origine del Medioevo. Però cosa succede? Che poi, già nel nono secolo, che è appunto proprio l'epoca in cui Titorel porta giù il Graal sulla Terra, abbiamo i primi deboli inizi di esseri umani che iniziano ad avere dei pensieri propri, cioè degli esseri umani che sperimentano non più il viene pensato in me, ma il io penso, cioè sono io che penso. È un momento di svolta importantissima. Esatto, esatto, no? E uno, Rudostani dice che uno dei primi fu il filosofo Giovanni Scotto e Riugena, però poi questo, io penso, si sboccia proprio nella sua pienezza con l'avvento di Tommaso d'Aquino. E quindi, in pratica, dal 333 fino all'avvento appunto del nono secolo, abbiamo questo iatto, questo periodo in cui l'umanità europea non ha più i pensieri che gli piovono dall'altro, però non ha neanche la capacità di produrli interiormente, no? È una fase di stallo. È una fase come uno iatto. Allora, cosa succede? Che il mondo spirituale, il mondo spirituale per comunque nutrire l'umanità in questo periodo di iatto, allora cosa fa? La saggezza spirituale la deposita non più nella testa, però all'interno del mondo del sentire degli europei. E questa è la nascita della mistica, della devozione, no? Che è un fenomeno squisitamente europeo. Interessante questo, perché allora tutti i fenomeni che la storiografia ci insegna hanno questa ragione, diciamo così, spirituale, no? Esatto. L'epoca del misticismo fa riferimento a questo fatto che si muove, diciamo così, la parte del sentire e non più tanto del pensare, è collegarsi al mondo spirituale. Esatto. Nella massima antroposofica 160, Rudostano è proprio, accenna a questo, ecco. Ed è interessante, quindi ecco, il mondo spirituale, tutta la saggezza non lo dà più, diciamo, al mondo di pensiero degli europei, ma lo deposita nel mondo del sentimento. E qui avviene una cosa molto interessante che proprio più o meno in questo periodo e un po' dopo, noi sappiamo verso il settimo secolo, anche prima, abbiamo in, diciamo, in Medio Oriente, poi successivamente anche con la nascita dell'Islam, una grande cultura intellettuale, no? È come se la saggezza cosmica avesse deciso che nel periodo del Medioevo le forze del sentimento vanno agli europei e le forze intellettuali vanno al mondo medio orientale che poi diventa anche islamico, no? E quindi c'è questa, diciamo, scissione, però attenzione perché anche questi ruoli diversi, anche nel mondo islamico l'intelligenza è qualcosa di passivo che fluisce, no? E quindi, quindi, un filosofo come Averroè che viveva in Spagna e lui dice che noi non abbiamo i nostri pensieri, che i pensieri ce li dà il mondo spirituale, no? Ecco, ce li dà Dio, Allah, ecco, e quindi, e quindi, questo è importantissimo, no? E noi non abbiamo la libertà in pratica. L'uomo non è ancora libero invece Tommaso d'Aquino dice no, non è vero, invece noi produciamo i nostri pensieri, ma avevano tutte e due ragioni, perché Averroè era l'uomo antico che ancora, come Aristotele, era passivo, cioè i pensieri gli venivano dati, mentre Tommaso d'Aquino è il prototipo dell'uomo europeo libero, libero, che produce i suoi stessi pensieri. E lì c'è un altro salto evolutivo, c'è un messaggio corrado di Moreno Cominato che ringraziamo, dice, mi scusi, ma secondo lei la serenissima Repubblica di Venezia, nei suoi millecento anni di storia, non fu un faro di libertà e crescita senza guardia nel Medioevo. Grazie, grazie a te Moreno. Sì, allora devo precisare, no, quando io, perché il Medioevo è un periodo molto lungo, questo fatto è solo nella prima parte del Medioevo, no, cioè, diciamo, sono circa quattrocento anni dal del 333 fino al nono secolo e quindi, diciamo, la serenissima Repubblica fiorisce più nella seconda parte del Medioevo e durante anche il Rinascimento, quindi siamo già in questa epoca in cui l'umanità occidentale comincia ad avere i propri pensieri. C'è già un influsso di questa così influenza dell'anima cosciente che sta arrivando, insomma. sì, 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 è anche vero quello che dice Moreno. Esatto, perché il fondamento dell'anima cosciente è proprio questo di essere noi i padroni dei nostri pensieri. Sì, questi concetti che sembrano concetti un po' così campati, così in aria, però in realtà vengono certificati, vengono dimostrati dalle epoche storiche, no? Sì. Se noi andiamo a guardare la storia, quello che dice Stein viene confermato, no? Esatto. Anche da una spiegazione ulteriore rispetto al fenomeno in sé, no? Certo, sì, sì, ma c'è per esempio un bellissimo racconto, cioè un racconto, un resoconto di un filosofo appunto che viveva più o meno 50 anni prima della nascita del Cristo, adesso Filona d'Alessandria, sì, dove lui proprio c'è un racconto dove lui scrive come a un certo punto si sente ispirato dal mondo spirituale e vede i pensieri che calano su di lui un po' come fiocchi di neve, una roba del genere, no? Proprio questa immagine della saggezza che gli viene data a lui, no? E quindi noi quando vediamo queste grandi civiltà del mondo antico, no? Con tutta la loro grande saggezza, perché anche adesso c'è la saggezza di Aristotele, in un certo senso non riusciamo a superarla, no? E noi abbiamo questo caso di questo signore Aristotele che viveva appunto cinquecento più o meno anni prima del Cristo che aveva già questa saggezza enorme e ci si chiama come è possibile questo, no? Sì. Però appunto perché questi ricevevano virtù della loro nobiltà d'animo ricevevano questa questa saggezza, no? Però c'era il come si dice il controbilanciamento di questo è che avevano molto meno libertà di noi perché anche anche le persone diciamo i re eccetera cioè se noi guardiamo tutta la vita delle persone nelle civiltà antiche ci rendiamo conto che tutti vivevano questa situazione di mancanza di libertà e però allora diciamo che già verso il 1200 quando scrivono questi autori del Graal cominciano ad essere già i segni premonitori dell'avvicinamento dell'anima cosciente ma allora tutto questo discorso interessante che hai fatto legato al Graal allora come come lo colleghi sì 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 certo perché dunque il Graal contiene il sangue del Cristo e noi sappiamo dell'antroposofia che questo sangue è un che poi non è il sangue fisico però è il sangue diciamo eterico è qualcosa di assolutamente unico e speciale ed è appunto una forza anche che ci rende possibile anche questo fatto cioè ci dà proprio l'essenza della libertà perché Lucifero è quello che ci dà l'indipendenza Lucifero è quello che crea le premesse per la libertà però l'essenza stessa della libertà è intimamente connessa con la forza dell'amore spirituale ed è intimamente connessa con il pensare spirituale il pensare autonomo ecco quindi non è un caso che questi autori che per adesso sono due francesi e due tedeschi cominciano a parlare di questa diciamo vicenda del santo Graal proprio in consonanza con questo mutamento diciamo così evolutivo che sta avvenendo dell'umanità che sta passando da un pensiero diciamo così passivo a un pensiero attivo esatto sì 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 che ha bisogno di forze eteriche di forze eteriche spirituali sì di forze della nostra volontà ecco perché per essere attivi nel pensiero noi dobbiamo volerlo non dobbiamo essere pigri il più grande peccato che noi possiamo commettere specialmente nel giorno d'oggi è quello di essere pigri nel pensiero è che bisogna come dire ci vuole un po' di sudore della fronte esatto ma di fatto l'immagine del sudore della fronte che dice Dio appunto ad Adamo devi guadagnarti il pane con il sudore della fronte a mio avviso indica proprio il compito dell'umanità cioè tu essere umano animale è sentimento essere umano è il pensiero noi possiamo essere evolvere l'amore spirituale solo se siamo attivi nel pensiero scusa no 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 io ogni tanto ti interrompo adesso mancano circa 12 una zona di minuti alle 19 che poi abbiamo il collegamento con Fausto Carotenuto e tu poi abbiamo anche dopo finito Carotenuto abbiamo ancora un po' di tempo tu vuoi dare un po' diciamo così una chiusura di questa tappa riesci a farlo vuoi che facciamo due note di musica no posso solo dire molto brevemente allora Titurel porta riporta il gras sulla terra cosa vuol dire che riporta la saggezza la saggezza però questa volta è una saggezza che perché Parsifal deve fare la domanda cosa vuol dire Parsifal non fa la domanda ed è un peccato cosa vuol dire che deve diventare attivo nel pensiero ah ecco quindi il mito del Graal accena anche a questo se noi vogliamo che il Graal scenda sulla terra noi dobbiamo diventare attivi nel pensiero ecco per collegarsi a queste forze spirituali del Graal però l'uomo deve fare anche un lavoro di trasformazione perché è lui che facendo la domanda veniva guarita la ferita esatto del re pescatore cosa volevo dire questa ferita la ferita perché lui praticamente ha ceduto agli impulsi diciamo così della carnalità dell'anima senziente questo vuol dire che la lancia ricorda che è un po' il pensiero questo vuol dire che per arrivare a questi pensieri puri pensiero che poi poi c'è il pensiero vivente dopo il pensiero puro eccetera dobbiamo superare questi impulsi delle brame dell'anima senziente allora Hegel dice il pensare fa sì che che allora il pensare fa sì che l'anima di cui anche l'animale è dotato divenga spirito il pensare fa sì che l'anima di cui anche l'animale è dotato divenga spirito però l'animale non ha il pensare quindi noi esseri umani abbiamo il pensare e noi con questo pensare possiamo elevare l'anima allo spirito questo Hegel Hegel sì perché non si era sentito bene all'inizio io magari ancora 5 minuti poi mi piacerebbe leggere un componimento che tratta di questo lavoro che l'uomo deve fare su se stesso per trasformare diciamo così gli impulsi più legati alle brame alle passioni alle antipatie e simpatie per collegarsi queste forze spirituali del graal dell'andità del Cristo è un componimento di Mario e Narelli insomma 3-4 minuti così e quindi io andrei avanti ancora con il tuo escursus e poi magari quando mancano 5 minuti alle 19 leggerei questo componimento che mi pare molto interessante rispetto a tutto quello che stiamo dicendo insomma sì sì allora parlo ancora per 5 minuti ecco quindi beh diciamo che io cosa posso dire adesso magari vi do un'altra immagine perché nel del Parsif di Wolfram Wolfram ci dice che lui questo racconto l'ha ricevuto da un certo personaggio che si chiama Chiot il Provenzale il quale lui stesso l'ha tratto da un da un manoscritto che ha trovato a Toledo nella Toledo islamica di un certo iniziato musulmano che si chiamava Flegetanis e questo iniziato era in grado di leggere il Graal nelle stelle nelle stelle è interessante quindi aveva questa saggezza cosmica quindi anche questi musulmani in qualche modo ci sapevano fare eh sì sì esatto esatto di fatto quello che è interessante è che nel discorso di Wolfram c'è sempre questo collegamento anche con l'Oriente mentre negli altri due sono più eh più europei insomma però volevo accennare al fatto che nel sangue del Cristo ok c'è come l'intero cosmo non c'è ci sono tutte le stelle no perché c'è l'immagine che noi eh nel sangue del Cristo diventiamo fratelli del Cristo e quindi diventiamo stelle del cielo per cui c'è questo collegamento tra il sangue e il cielo stellato e la saggezza del cielo stellato che è la saggezza anche del padre perché la saggezza dello zodiaco e lì abbiamo la permanenza l'eternità mentre nei pianeti abbiamo più il figlio nello zodiaco nel cosmo abbiamo più il padre no? quindi il graal è una forza che ci porta verso che ci riporta al padre insomma diciamo le immagini collegarle appunto alla realtà cosmica però è anche interessante vedere come questo mondo islamico comunque di questi filosofi ricercatori in qualche modo fanno da pandan con si diciamo che è come se il mondo spirituale avesse deciso siccome noi attualmente non siamo in grado di pensare e di essere forti nel pensiero lo saremo in futuro quando avremo riusciremo a far scendere la forza del pensiero nel cuore allora cosa fa il mondo spirituale decide di dare il pensiero al mondo islamico e il sentimento al mondo europeo e solo adesso riusciamo un po' a fondere queste due forze no? e nel futuro riusciremo a avere il pensiero i pensieri che scendono nel cuore ecco quello a cui dobbiamo tendere quindi abbiamo fatto tutta questa fatica per produrre il pensiero esatto sì e poi dobbiamo ancora una volta riportarlo giù insomma sì 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 ecco allora io direi magari facciamo due note di musica e poi leggiamo questo componimento vado avanti allora sì 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 e ci facciamo accompagnare da queste musiche mistiche di Wagner e allora Corrado grazie di questo lavoro intanto poi lo riprenderemo dopo dopo il nostro ospite allora andrei a leggere questo componimento di Mario Iannarelli che si collega un po' alle cose che abbiamo detto a questa ricerca del Graal e il titolo è velo velo svelare tu libero e senza più dimora viandante fatti sopra questa terra come a un eternante compito del Graal Santo alla sua cerca non c'è più vera pace né dimora per chi terra natia cercando va insonne cerchi la più vera via finché non trovi ciò che ti bisogna finché l'illuminante ti rivela da Cristo Michele illuminato vero è che non ti manca il Cristo ma povero sei tu della Sofia al Cristo il sangue suo ti porta ma trovare quel calice tu devi ovesso da quel più santo venerdì d'amor per forza per rifluir fluì ma pura è la coppa che l'accolse più grande è certo il contenuto però a esso giungere non puoi se con mente impura tu la pensi ardito pensiero e devozione per la verità caldo entusiasmo compassione d'amore e umiltà al gral mistero ve lo svelano ecco bellissimo questo componimento poi faremo qualche commento e allora tra mi pare 30 secondi qui c'è la spinta interiore a cercare la verità e quindi chi ha questa motivazione questa spinta passa notti insonne non può stare fermo e quindi questa ricerca del gral ci parla di trovare questa coppa che però è una coppa pura bisogna avere pensieri puri bisogna avere trasformato un po' questi nostri impulsi inferiori e la coppa poi ci porta al Cristo come la Sofia non ci manca il Cristo ma la Sofia la conoscenza del Cristo ci dice qui pronto eccoci qua eccoci qua Fausto caro tenuto tu ci senti io vi sento bene benissimo però non ci vedi io vi vedo voi per qualche motivo non vi vedete esatto non ti vediamo allora chiudiamo che noi oppure lasciamo io vi vedo e vi registro voi no va bene va bene allora Fausto caro tenuto ti ringraziamo tantissimo che hai dato questo spazio che sei veramente impegnatissimo e quindi grazie di cuore per questa tua disponibilità allora noi noi avevamo un po' concordato questo titolo di questa sera abbiamo fatto questa premessa con il lavoro di corrado spiegando un po' la cornice diciamo così delle vicende del Graal tra leggenda e realtà e il titolo che abbiamo dato così all'incontro con te è il mistero del Graal oggi siamo all'oggi di una umanità umiliata e vinta o all'avvento di nuovi cavalieri solari per la conquista di un Graal di nuova coscienza sì potrebbe sembrare un po' un collegamento azardato nel senso di unire il sacro col profano le vicende spirituali del Santo Graal però diciamo io ho sentito che tu stai facendo tra tantissime cose interessanti laboratori e attività formative anche un lavoro sul Santo Graal e da qui è partita un po' l'idea perché appunto da come ho sentito in una delle tue conferenze che è legato anche alla situazione di oggi e quindi ha stimolato la curiosità di capire in che senso il Graal ci può aiutare a avere delle chiavi di lettura nuove o anche così importanti di questa situazione allora io una domanda me la son fatta cioè dico probabilmente il Parsifal non ha fatto la domanda e qua a me pare che l'umanità sta andando diciamo così nel fosso perché purtroppo dorme sonni profondi almeno una grossa parte e non si pone domande di quello che sta succedendo però io lascio volentieri la parola a te solo due parole riguardo il nostro ospite appunto Fausto Carotenuto ricercatore formatore analista politico e si occupa della ricerca di capire i fenomeni internazionali alla luce appunto dell'esperienza ricchissima di analista politico della tua esperienza della tua vita precedente se si può dire e poi fondatore del sito coscienza in rete punto net dove si trovano veramente cose molto importanti e ricchissime di contenuti ecco allora lascio la parola a te e poi vediamo un po' come va tutto l'escurso domande che vengono avanti io penso che sia un argomento anche un po' nuovo insomma analizzare la situazione sociale politica di oggi alla luce di un evento spirituale così importante grazie carissimi saluto tutti e comincio subito con una considerazione che vale per tutti i fatti spirituali io sono steinerano sì e no nel senso che sto con Steiner fino a che c'era Steiner dopo Steiner c'è qualcosa di più di Steiner nel senso che l'evoluzione prosegue così come Steiner non era più San Tommaso e non era più Aristotele no quindi questa epoca è ma lui lo diceva sarebbe stata cent'anni dopo lo diceva cent'anni dopo di lui un'epoca in cui di spiritualità si sarebbe parlato e fatto in tutt'altro modo in modo pratico e lui questo lo diceva diceva ad una conferenza è venuta una signora e mi ha detto o un signore non me lo ricordo cioè sì ma lei fa tanti discorsi ma e qui mi sembra un po' quello che hai detto tu la spiritualità e la pratica sono due cose differenti noi che ci facciamo con tu Sassarò e lui disse ma qui bisogna capire che o la spiritualità ti cambia la vita pratica quella di tutti i giorni in meglio che significa che tu diventi migliore oppure lascia perdere oppure non è nemmeno spiritualità così ha detto quindi io quando sento in quest'epoca troppi voli pindarici ottocenteschi mi sento come se noi stessimo prendendo un tesoro e lo stessimo tenendo chiuso nel baule e stessimo descrivendo il tesoro invece da adoperarlo il graal è un grande tesoro ma non ci si arriva con le speculazioni filosofiche il graal è una cosa e lo diceva anche il buon Steiner che è dentro di noi dentro tutti il problema è come tirarlo fuori allora deve arrivare deve scendere devo fare la domanda mettiamo in pratica ma che è sta roba? io per tirare fuori che è veramente questa roba e che poi si ricollega perfettamente con le poche cose che dice Steiner su parsi fa sul graal perché evidentemente lasciava a noi molto ma quelle che lo dice sono incredibilmente precise però bisogna applicarle come lui diceva alla vita di ognuno di noi se no noi abbiamo sempre un ideale che sta lì ci è arrivato Parsifal ci è arrivato Steiner ci è arrivato quell'altro e noi stiamo qui a fare i disgraziati premuti da tutte le parti dalle masse furibotte ad esibire il Green Pass eh appunto no Parsifal sarebbe stato vittima del Green Pass anche lui sarebbe andato vaccinato col Green Pass sicuramente gli prendeva anche il Covid però questo gli sarebbe servito come dico io per un bene superiore per raggiungere un bene superiore tutti noi siamo in mezzo a un mare di problemi che ci vengono apposta incontro per raggiungere un bene superiore il graal vi dico sta cosa così sembra che chissà il graal sta già funzionando dall'inizio dell'era della coscienza dal rinascimento un po' alla volta un po' alla volta c'è stata una grande esplosione di graal a partire dagli anni 60 60 70 noi siamo stati tutti Parsifal chi l'ha vissuto quelli che hanno cominciato a contestare tutto come faceva Parsifal Parsifal comincia contestando tutto a farsi domande no 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 prima ancora prima attenzione le domande se le fa solo e questo è il tema importante della domanda se no si dice sta domanda e c'è falla sta domanda no e finisce sta storia e Parsifal il re guarisce eccetera eccetera no lui deve arrivare alla cottura giusta di problemi suoi da fare che questa cosa uscisse da lui e che non fosse più un un qualche cosa che qualcuno gli diceva o che aveva letto o che un insegnante gli ha detto che era opportuno fare lui è l'uomo nuovo lui vive veramente perché quello che vi racconto io è quello che racconta i miei allievi e anche come si dovrebbe fare scienza dello spirito andare a vedere chi era Parsifal che stava facendo in che luoghi è andato e noi questo l'abbiamo fatto è un personaggio vero Parsifal vissuto nell'ottocento dopo Cristo così come il nemico di Anfortans il male che è ancora operativo come dice Stein Klingsor il il mago del male era vivo in quei tempi lo dice anche Stein era il conte conte vesco figurate di Capua e viveva proprio in quegli anni si chiamava l'andulfo secondo ed era uno vero quindi noi parliamo di come tutte le vicende come l'odissea come i Vangeli questi sono Vangeli anche il Parsifal è una sorta di Vangelo è un testo sacro insomma è un testo sacro se uno lo legge con gli stessi archetipi conoscendo gli archetipi dei testi sacri di Omero del Vangelo di Dante del Parsifal ritrova la stessa lettura profonda ma li devi conoscere quindi io in questo l'intento di questi seminari ho fatti due con un centinaio di persone e adesso siccome la richiesta è enorme lo metterò online tra un paio di mesi ah bellissimo buono buono perché molti dei seminari i miei seminari non si possono fare online perché sono formativi c'è a vedere come stanno le aure quello che succede imparare a conversare col cielo con il proprio cuore e quindi quelli non si possono fare a distanza però alcuni si possono fare a distanza questo è uno che si può fare perché non impegna in quel momento il pubblico anche se io spero che lo impegni dopo perché ho visto mentre lo facevo gente mentre lo facevo significa esaminare le varie fasi della vicenda di Parsifal e degli altri di Hanfortas di Titurel di Trevizre di tutti quanti che sono tutte parti della nostra struttura c'è chi è l'io chi è l'ego chi è il doppio chi è il guardiano della soglia chi è l'anima cosciente l'anima che sente l'anima che ragione c'è tutto gli stessi personaggi dell'Odissea gli stessi personaggi quindi Fausto Carotenuto ripercorrere diciamo così questo percorso queste immagini queste immagini smuovono diciamo che in chi sta facendo questo lavoro con te smuovono poi delle realtà interiori animiche spirituali lì gioie commozioni dolore e in certi momenti c'era chi piangeva perché? perché riviveva detto da due sommi artisti quei menestrelli che erano che erano i due cretienne de Troie e Wolfram von Eschenbach rivivono attraverso questi due sommi artisti della corrente templare chi templare gli fecero fare queste cose tre secoli un po' più di tre secoli dopo che erano successe le cose quindi da che erano esoteriche decisero di farle cantare dappertutto e fare un sacco di copie che hanno distribuito dappertutto perché questo entrasse nella coscienza umana e prepararsi il rinascimento a copie proprio cartacee di questi scritti sì sì copie cartacee a ripetizione e poi c'erano i menestrelli che cantavano prima c'erano solo i menestrelli come Omero Omero era un aedo che cantava e cantando faceva melodie e ritmi giusti per smuovere i corpi vitali delle persone e inserirci dentro qualcosa di superiore abbiamo bisogno tantissimo di questo canto oggi penso Fausto Carotenuto che c'è rimasto? no abbiamo bisogno tantissimo di questi canti io penso oggi sarebbe bellissimo se fossero dei cantori io ho lavorato molto su questa cosa perché dopo il mio corso sui talenti faccio un corso sull'arte con tanti artisti perché l'arte va rifondata da capo l'arte fino fino ai medici era arte fatta da iniziati ma per tutta la storia a fine ai medici fatta per suonare le corde dell'animo umano per far crescere lo spirito delle persone era artista che era capace di fare questo con mezzi materiali quindi artisti sommi non ce n'erano tanti per secolo non è che bastava andare a scuola e uno diventava capace no? di essere come Giotto come Raffaello o Michelangelo o i grandi artisti medievali o quelli precedenti o quelli greci o quelli egizi cioè questi sapevano esattamente attraverso le loro scuole misteriche sapevano come suonare l'arpa si vedono dei vasi greci in cui si vede una donna che suona l'arpa ma non è che stava partecipando a un rinfresco e faceva il piano bar no? era l'artista maschio o femmine in quel caso era Saffo che tutto era tranno quello che ci hanno raccontato che era capace di far risuonare sapete da cosa è fatta l'arpa umana? anche questo andrebbe detto e andrebbe diffuso l'arpa umana è fatta dei chakra ah quindi Steiner fece un lavoro per quello che si poteva fare in quel momento e il lavoro era quello scusate un attimo e il lavoro era quello di durante i suoi processi iniziatici disse un po' di cose non fece tutto eh saranno due al massimo gli iniziati fatti da Steiner che nel 1935 vennero buttati fuori dalla società antroposofica due quando cominciò a fare la scuola iniziatica fece solo la prima parte la prima lezione poi l'hanno avvelenato e morto e lui diceva se ne parla 300 anni quando applicheremo in pratica queste cose quindi lui raccontò eh come erano fatti il quinto chakra petalo per petalo qualità della volontà e il quarto chakra qualità del cuore e poi quando alcuni disse il terzo chakra non è il momento lo faremo più in là forse adesso è il momento noi abbiamo ricostruito nel nostro lavoro tutte le qualità dei chakra eh i petali sono 50 a noi ne competono 26 qualità dell'anima e gli artisti antichi non so nel neolitico gli iniziati con l'arte con i dipinti con i suoni con i momenti sul terreno lavoravano un po' su tutto quindi lavoravano non so nel neolitico sul secondo il terzo chakra il primo arrivavano al massimo al secondo i greci cominciano ad arrivare al terzo al quarto all'anima che ragiona a sistemare le sensazioni che erano troppo selvagge e le tragedie greche si facevano per esempio per questo motivo per educare la gente a vedere i difetti della loro sensorialità delle loro ire delle loro paure era istruzione l'arte serviva a istruire le statue greche servivano a dare i modelli per il corpo eterico addirittura di costruzione e poi quando arriviamo all'inizio dell'età della coscienza bisogna usare quello strumento che è l'amore perché il Cristo non è venuto a portare la sapienza quella c'era prima non c'è nulla di più sapiente del mondo greco lui viene a portare l'amore che si deve aggiungere la sapienza e diventare coscienza il pantocrator il Cristo che si vede creatore negli absidi delle chiese ha sulle ginocchia un libro che è quello della sapienza che non è il suo è il libro che gli ha dato la madre è il libro della Sofia quindi alla Sofia si aggiunge l'amore non il contrario e quindi diventa come diceva Steiner una saggezza superiore l'intelligenza del cuore finalmente ma come si aggiunge il cuore alla saggezza si aggiunge operando con azioni e il povero la differenza tra Parsifal che sbaglia per anni e anni e che fa tutte azioni sbagliate non che fa pensieri sbagliati lui fa azioni sbagliate che certo teniamo da pensieri sbagliati ma se avesse fatto solo pensieri sbagliati e erano azioni sbagliate non si sarebbe trovato nei guai qual è il recupero pensiero la domanda che facendola al re pescatore in effetti lui fa a se stesso perché tutti i personaggi sono parte in questi testi sacri sono parte di un'unica struttura oltre a essere personaggi esterni no? e quindi Hanfortas è il suo ego e lui è l'ego che sta cercando di diventare io spirituale anime lo consigliano il suo spirito interviene come un saggio a consigliarlo l'anima cosciente di Sigune della madre lo consigliano ma non sente nessuno perché deve capire da solo quando ha capito che ne ha fatte tutti i colori e sta dentro male comincia a domandare domanda domanda ma che mi succede ma dove devo andare non lo faceva prima quindi domanda è quella cosa che riguarda noi adesso ma adesso che noi non arriviamo mai alla svolta della nostra vita se non ci domandiamo ma io che sto facendo ma perché ho una ferita ma perché sto male ma perché la mia famiglia è andata male perché io che ho fatto e cominciamo a capire noi che abbiamo fatto un fortale che è il suo ego non ha ancora capito apposta sta lì perché è lui che non si è fatto la domanda viene uno spirito nuovo suo che ha fatto altre esperienze a farsi la domanda e la domanda è ma io perché sono ferito e Parsifal è in grado di farlo perché ha sviluppato l'errore è saltato addosso a delle donne ha usato il sesso male e poi ha capito il disastro che ha combinato e quando riconosce in se stesso la ferita di Anfortas e quindi ha compassione di se stesso quindi la domanda è quella svolta che noi abbiamo nella nostra epoca lo dice anche Steiner quando sorge il dubbio è dal dubbio che parte la domanda e lì parte finalmente la possibilità di risalita per arrivare fino a dove ve lo dico dopo ma quindi Parsifal tutti i personaggi della vicenda del Santo Graal sono diciamo proiezioni di queste realtà interiori che abbiamo ma è un uomo moderno sembra perché tutto questo è assolutamente moderno adesso vi dico una cosa molto pratica i grandi testi sono l'Odissea oltre a quelli più antichi ma i grandi testi che proprio distribuiti come testi sono l'Odissea dell'iniziato Omero che i greci si è sempre detto che era il Vangelo dei Greci poi i Vangeli poi il primo testo importante che è proprio un vero e proprio Vangelo è il Parsifal di questi due e se tu lo analizzi sono fatti nello stesso modo anche la Divina Commedia è fatta nello stesso modo Beatrice è l'anima cosciente di Dante e lui fa la salita dalla selva oscura che c'è anche in Parsifal che è il momento difficile della sua vita si fa guidare ma alla fine si fa guidare dalla sua anima cosciente e dal suo spirito che è Bernardo se uno prende singolarmente ogni parabola del Vangelo c'è sempre un doppio binario ci sono i personaggi ma i personaggi sono sempre parti dell'anima lo stesso vale per le tragedie greche lo stesso vale molte volte per Shakespeare il re buono il re cattivo è lì l'ego e tutte le donne sono le parti dell'anima e gli uomini i valletti sono i sensi eccetera eccetera ma la stessa lettura precisa è anche in Omero in questo seminario ho fatto la lista degli archetipi 30 archetipi che bisogna conoscere che cosa significa arco che cosa significa frecce cosa sono gli uccelli cosa è il re cos'è la dama eccetera eccetera cos'è un albero nell'archetipica e sono gli stessi che hanno sempre operato in questi poemi ma sembrano un segreto questi indicano solamente che c'è una lettura più profonda nella quale queste sono le vicende interiori nostre ognuna di queste sono le vicende interiori nostre e contemporaneamente è una vicenda storica quindi il Cristo ha avuto le sue vicende storiche Ulisse è esistito con quelle vicende Parsifal ha avuto quelle vicende ma sono anche archetipiche ma di questo ne parla Wohlstein fisicamente dov'è che tieni questi corsi Fausto? io li tengo non riesco più a muovermi li tengo a Castelgiorgio che è Orvieto dove c'è la nostra accademia di coscienza in rete che penso in questo momento sia forse una delle più frequentate d'Italia di crescita spirituale in questo momento ho 500 allievi all'anno che è un numero e quindi non ho nemmeno più il tempo di fare giri e di andare in giro perché tutte le mie settimane sono occupate infatti non è stato facile averti questa sera in effetti quindi dicevi che dobbiamo fare questo lavoro di trovare diciamo così il Graal interiore non vi ho detto ancora che è sto Graal che è questa storia esatto diceva che dietro al Graal c'era un enorme mistero che si sarebbe svelato col tempo cioè oltre al mistero dell'amore che è quello fondamentale c'era anche il mistero della vita io mi sono trovato bene a capire meglio quello che lui diceva facendo tutta una serie di studi sui vaccini sul covid sugli effetti dell'elettromagnetismo di queste minacce che abbiamo intorno facendo studi scientifico-spirituali sull'effetto sugli eteri e sui petali dei chakra ed è chiaro ci sono degli effetti forti c'è proprio una tendenza a squilibrare l'equilibrio degli eteri che è dentro di noi quindi delle forze vitale quindi tutti i vaccini o il covid è uguale perché è la stessa storia più o meno no? e quello aumenta l'etere chimico per esempio a danno dell'etere della luce del calore della vita quindi ogni organo ogni sistema compreso il sistema immunitario è differente dagli altri perché è un mix eterico un po' differente deciso dal cielo per questo non abbiamo cellule organi differenti a sua volta c'è un altro equilibrio eterico tra eteri superiori e di questo parlava anche Steiner e sub-eteri o eteri corrotti non so l'etere della luce ha dentro di noi e fuori di noi l'etere corrotto il sub-eteri corrotto dell'elettricità allora che significa noi stiamo facendo di tutto per aumentare gli eteri costruttivi a danno degli eteri vitali gli eteri elettrici il grafene le cose l'elettromagnetismo per alterare i sani equilibri interiori perché perché noi per pensare bene dobbiamo avere una struttura che sta bene e la materia dei pensieri è etere i neurotrasmettitori che sono elettrici sono semplicemente l'hardware come un computer ma c'è una parte ben più importante che circola sopra questa elettricità usandola che sono gli eteri divini allora loro ci vogliono diminuire vogliono aumentare la presenza degli eteri corrotti per chi fa questo correttenuto magari fa fatica a intelligere o comunque a capire cosa vuol dire etere diciamo sono queste forze queste sostanze sottili diciamo formative che stanno dietro gli elementi materiali in maniera più semplice come lo dico ai primi allievi che arrivano c'è la materia minerale che è fatta di atomi e che non ha vita dentro giusto? se tu prendi in una materia minerale e ci metti qualcosa di invisibile che si chiama etere o elemento vitale che è invisibile il minerale diventa pianta e cresce verso l'alto tutto quello che fluisce dentro e che fa vivere la vita è una cosa sembra assurdo che la scienza nostra non conosce sa che c'è sa che uno muore e se uno muore non sa perché è uscito l'etere e quindi non sa nemmeno come funziona nei sistemi vitali non sa nulla dei sistemi vitali il sistema nervoso ha un mix eterico quindi di quattro eteri che sono la vita la luce e il calore che vengono dal cielo e l'etere costruttivo del suono chimico che viene dal cielo dal sole ma entra nella terra e ci risale attraverso le piante dei piedi queste cose si incontrano dentro di noi e fanno la fontana del graal la fontana del graal che allora ha una sede fisica anche nel nostro corpo e dove si colloca nel cuore però è una fontana allora nel primo chakra cioè in quello che si chiama la kundalini quello della radice per capirsi alla fine della spina dorsale alla base si incontrano tutti gli eteri quelli che vengono dal sole attraverso la spina dorsale i tre eteri superiori vita luce e calore si incontrano con quello costruttivo chimico lì e da lì fluiscono in tutto il corpo questa è la fontana ora il problema è che noi la fontana ce l'abbiamo ed è alimentata da elementi divini perché noi non è che siamo capaci di alimentare questa cosa nel modo di farla fluire elementi spirituali sono dentro di noi a fare quello che noi non abbiamo la coscienza di fare nulla avviene nel cosmo se non c'è una coscienza che lo fa noi facciamo funzionare il fegato non facciamo funzionare nulla ecco allora quello che succede e che succederà è che così come hanno lasciato a noi le scelte il libero arbitrio la possibilità di sbagliare così come non hanno lasciato ancora gli animali ci hanno tolto distinto un po' alla volta ci hanno dato la possibilità di imparare sbagliando Parsifal stanno facendo anche in modo che e questa è l'ultima storia che sta avvenendo in questi anni che esseri umani potessero toccare l'albero della vita non solo avere accesso all'albero della conoscenza l'albero della vita era rimasto in paradiso questo non lo potete toccare la genetica tutto quello che vi fa gli eteri adesso il cielo consente che tocchiamo anche quello per imparare sbagliando e adesso è quello che stanno toccando quindi questa fontana naturale non si può più difendere a meno che noi non sviluppiamo la fontana del graal che è di nostra competenza che è dentro di noi e che ha come base il cuore quindi il Cristo in noi di cui tanto si parla senza sapere di che si parla è in effetti la nostra spinta amorosa che produce i Rosagroci lo sapevano dice anche Steiner ma queste cose vanno messe insieme cucite applicate il cuore quando ama nei fatti e questo si può fare tutti i giorni quindi quando ama fare il bene quello significa amare sforzandosi di andare al di là dei propri limiti quando fa questo produce un quinto etere di questo parla anche Steiner produce un elemento vitale che non viene più dal sole o dalla terra ma che viene dal nostro amore è una cosa enorme questo è il più grande segreto del graal applicabile alla nostra epoca quindi prima io rafforzavo la mia psiche nel medioevo nel rinascimento ma ancora adesso enormemente è il mio spirito amando attivando la fontana del graal dal cuore adesso io difendo e rendo ancora più forti anche le forze fisiche tutti gli studi le simulazioni che ho fatto ho detto ci diminuiscono del 10 15% le forze eteriche con il vaccino per esempio e ancora di più faranno con l'elettromagnetismo che è già cominciato ma che aumenterà migliaia di satelli ci saranno intorno a noi non è che potremo scappare allora la risposta qual è? il cielo può far fallire il suo progetto perché quattro disgraziati Tesla e company mettono i satelli dei poteri di cui stanno dire no è previsto che loro lo facciano e che noi rispondiamo allora se noi perdiamo il 10% e usiamo l'amore arriveremo ad equilibri eterici ma nella vita più di quello che facciamo adesso con la gente intorno a noi il nostro equilibrio eterico arriva al punto che il quinto etere risana tutti gli elementi di problema e quindi noi potremo vivere anche in una gabbia elettromagnetica dominandola insieme al cielo ma il cielo vuole che facciamo la nostra parte perché in fondo è karma gli esseri umani provocano questo equilibrio e gli esseri umani hanno questo meraviglioso strumento dell'amore da adoperare allora gli iniziati hanno sempre saputo scusa finisco così rispondo alla vostra domanda da dove viene fisicamente il cuore produce un etere rosso del calore umano che sale attraversa la gola quindi il cuore è la base del calice lo stelo del calice è il percorso attraverso la gola quindi bagna il quinto chakra e riempie la volontà di voglia di amare voglia di fare le cose buone poi prosegue perché deve capire come fare le cose buone entra nel cranio il cranio per gli antichi era la coppa dei pensieri quello è il calice la coppa dei pensieri che prima era priva d'amore e si riempiva d'egoismo si riempiva di sapienza che modello l'impero romano la finanza attuale eccetera eccetera usava grandissime sapienze per fregare la gente per predarla guardiamoci intorno l'impero romano è proprio l'archetipo di questa cosa e ancora domina allora quando il Cristo fa l'ultima cena lui adopera la coppa del cranio umano per dire usate tutta la materia della terra e tutto l'elemento vitale della terra che sono il pane e il succo non fermentato di uva usate queste due cose per amore perché io ve lo date per amore quindi quando pensate e fate fatelo in memoria di me quindi qualsiasi azione fate sulla terra ricordatevi di farle per amore in memoria di me significa ricordandovi che io sono quello che va dato questo perché voi l'operaste per questo e questo riempie finalmente è il sangue che poi viene raccolto alla fine il sangue purificato da Giuseppe da Rimatea eccetera eccetera e che forma il vero e proprio gra chi è che trova la coppa chi ha sviluppato la coppa dentro di sé perché non è esterna in questo momento la coppa del Graal c'è ma è una dimensione superiore spirituale per alcuni secoli c'è stata fino alla seconda guerra mondiale c'è stata cioè puoi spiegare meglio quest'ultimo punto io le butto lì no perché è chiaro che Stai non c'era della seconda guerra mondiale e quindi non possiamo rimanere bloccati a quello che uno ha detto cent'anni fa la storia continua quindi una cosa che dico per la prima volta in pubblico la dico ai miei a quelli che vengono ai miei seminari anzi io l'ho detta adesso è che Steiner ma questo si trova solo andando a vedere con la scienza dello spirito andando a vedere le cose i fatti come faceva Steiner e si può fare lui ha detto si poteva fare quindi si può fare Steiner si occupò di riportare il Graal sul piano fisico quando stavano arrivando la prima guerra mondiale e poi la seconda e tutto quel momento di genocidi eccetera quindi lui col Graal si iniziavano i grandi iniziati i templari si iniziavano davanti al Graal al Graal fisico a Castel del Monte c'era il Graal fisico e tutti gli iniziati di quell'epoca andavano a Castel del Monte a iniziarsi scusa Fausto che ho ritenuto vuol dire che emanava delle forze spirituali eteriche questa coppa ma c'è personale il rapporto con il mondo spirituale è tutto di risonanza io se amo riceverò la risonanza delle forze d'amore se io faccio il male riceverò in aggiunta le forze del male è tutto un sistema di risonanza funziona così se uno guarda come funziona un'aura io lo insegno ai miei si vede questo io esercito il male attivo l'arve esercito il bene attivo elementi luminosi che me lo fanno sentire di più quindi il cielo ci fa sentire di più se siamo nella direzione busta o se siamo in quella sbagliata e mi sembra un meccanismo educativo perfetto Steiner fece questa cosa perché serviva degli iniziati di livello superiore che non sono emersi ma hanno lavorato durante questo periodo altrimenti la seconda guerra mondiale non sarebbe finita Steiner dice che gli asuras vengono sulla terra gli esseri della distruzione per la distruzione a partire del 1879 e sono loro che in fondo fanno la prima guerra mondiale le stragi eccetera però non ci poteva dire che gli iniziati che lui aveva iniziato a un certo punto dopo le bombe atomiche rimettono sono capaci con l'aiuto del cielo di rimandare via dalla terra almeno il 90% di questi esseri che non sono più qui altrimenti l'età del risveglio di coscienza degli anni 60 non sarebbe stata possibile però io insisto non si può fare scienza dello spirito solo leggendo Steiner bisogna andare avanti come diceva lui e si scoprono delle cose interessanti bisogna avere delle facoltà anche per andare avanti questo è quello che io cerco no non bisogna avere le facoltà è lo stesso Steiner che diceva tutti gli uomini sono pronti e sapete perché non è stato fatto io sono molto duro su questa cosa perché i gesuiti hanno mandato un loro uomo che ha bruciato il Geteanum e un altro che ha fatto fuori Steiner avvelenandolo e poi si sono letteralmente impossessati dal 1935 delle istituzioni antroposofiche e quindi hanno tolto la spinta verso la veggenza che lui diceva diventate veggenti non ci può essere un medico che non è veggente vi do le istruzioni potete parlare con i defunti si fa così potete parlare col cielo si fa così perché non è stato fatto è perché alla testa c'è la gente che ha tolto due cose dall'antroposofia l'amore ne parla solo ma ha tolto l'amore che c'era e ha tolto la veggenza che era lo sviluppo umano che tutti vogliono esercitare i miei allievi un po' alla volta diventano tutti veggenti però quindi per te tipo per te quindi un Albert Steffen ha portato corruzione all'interno della società Steffen è esattamente quello che è stato inviato a dargli il pasticcino Steffen certo e lui diceva nelle sue confidenze lo stesso Steiner quello attenti al gesuita tra di noi diceva la moglie e poi diceva quello ha un pensiero lunare per chi sa che cosa sono il sole e la luna un pensiero lunare non era il pensiero di Steiner e il karma come sapeva Steiner ha voluto che andasse così perché? perché come nel caso di Parsifal ogni volta che ancora non era pronto e che pare che stesse andare al castello del Graal si ritrovava davanti a un ostacolo e quindi in pratica l'ostacolo che ha trovato l'antroposofia con Steffen eccetera eccetera è perché la gente non aveva ancora esercitato grandi forze d'amore e quindi Steffen e i suoi sono stati quello che si chiama il guardiaro della soglia non sei pronto non puoi andare avanti ma adesso siamo pronti in realtà è pronta c'è una facilità incredibile a seguire le indicazioni di Steiner ad entrare in contatto con i propri defunti lo faccio da 15 anni praticamente con tante persone seguendo e amplificando le indicazioni di Steiner non li tengo lì a leggere 400 volte filosofia della libertà che se non conosci come è fatta l'anima umana leggi e non capisci lo puoi leggere quanto ti pare ok un lavoro da pioniere stai facendo Fausto Cartunuto ho l'impressione che tra l'altro diciamo così ci voglia un coraggio e una forza voglio dire notevoli portare avanti un percorso come stai portando avanti perché non penso ce ne siano tanti forse sei anche come dire un po' solo in questo lavoro o sbaglio beh occhi mi aiuta certo ho dovuto aprire terreno nuovo perché il mondo antroposofico proprio non mi comprende quello istituzionale però sta male non produce nulla le scuole antroposofiche nel mondo anche in Inghilterra stanno crollando cioè non si può ottenere è come si sta facendo come la chiesa la dirigenza di Dornac ma guardate l'atteggiamento che hanno avuto adesso sui vaccini ma su forza guardate li riconosciano dai fatti dai frutti l'atteggiamento della società antroposofica dici certo assolutamente vaccinista anche la parte medica bisogna fare quello che dice lo Stato bene io sono contento del Covid sapete perché perché sta facendo crescere un sacco di gente ed è un'enorme cartina sornasole infilata nell'acqua dell'umanità e uno vede quello che prima non vedeva vedi i livelli di maturità delle persone o no eh sì come c'era c'era quel video che gira di quel contadino non so meridionale o del centro Italia che dice ma dovrei essere scontenti perché adesso possiamo vedere queste forze scure che vengono dalla luce non so se l'hai vista è simpaticissimo certo l'ho visto ma hai ragione cioè tu prima dicevi c'è questa massa che ci opprime no questa maggioranza io sono andata a vedere come era i tempi di stare cent'anni fa meno dell'uno per cento un po' di amore nella vita e di etica altrimenti non sarebbe stato possibile il fascismo e il nazismo vedere quello che è successo cioè noi abbiamo assistito quando eravamo negli anni sessanta il 6-7 per cento si stava svegliando e c'era stata la guerra per svegliare le persone e aveva prodotto costituzione ecc dal momento della contestazione in poi che è proprio Parsifal che non accetta niente ma intanto decostruisce e può ricostruire il nuovo no questa cosa qui ha portato negli ultimi anni e il 2012 è stato un momento culmine a che un terzo dell'umanità si sta svegliando che significa che non vuole più prevaricare un altro che non vuole più uccidere un animale inutilmente che ama la natura che vuole essere solidare con gli altri ma soprattutto non vuole prevaricare nessuno per il proprio egoismo se vi guardate intorno uno su tre è così questo è un enorme riempimento del bicchiere io nei miei testi e nelle mie conferenze che nel mio libro principale dico questa è la più grande rivoluzione della storia umana è la più grande operazione fatta da Michele dal cielo in terra la stiamo vivendo dentro adesso e tutti ci fanno di tutto per farci essere pessimisti perché è chiaro il 70% ancora non cresce la democrazia è ancora in mano ai dormienti e la democrazia in questa situazione è una clava adoperata dal potere contro chi si sta risvegliando in questo momento la democrazia è un disvalore sì giusto? certo ma noi c'è un riempito di forme pensiero ormai non più attuali però io poi andiamo avanti con questo percorso interessantissimo dove ci stai portando ed è ho sempre così mi ha sempre toccato questa tua esortazione ad amare a fare anche nel quotidiano piccole azioni diciamo così di aiuto che risveglino questa qualità che abbiamo perché poi in questi tempi poi siamo veramente inondati da questa infodemia tutte le chat migliaia di messaggi allarmati allarmanti però questa predica dell'amore la chiesa l'ha fatto per secoli però allora forse non basta voglio dire la chiesa ha perso su una lavanderia nel quale non c'era evoluzione ma c'era solo un lavaggio di anima a pagamento prima era a pagamento poi hanno subentrato l'otto per mille però era l'impero romano che tu facevi un peccato cioè commettevi il crimine e ti dava la sentenza tre pade rave e gloria nel medievo gli davi una vigna eccetera eccetera no? quindi la chiesa ha messo su una lavanderia di finto amore per farlo è stata obbligata a ad avere anche santi mistici amorosi veri altrimenti l'impero romano che si era trasformato in chiesa non reggeva la storia quindi c'è stata una chiesa che si chiama Giovannea pura buona da quale vengono i templari poi Rosa Croce eccetera eccetera che poi viene sconfitta al momento dei templari e una chiesa come la chiamavano corrupta carnalis come diceva Gioacchino da Fiore che era la chiesa pietrina ma che è solo l'impero romano che quando arrivano i barbari indossa il costume della chiesa e dopo un po' riesce a dire sono io che legittimo i re non so se vi sembra il ritorno dell'impero no? e continua a farlo no? allora però per dire questo deve parlare di amore ma non evolutivo l'amore vero è evolutivo che cosa significa? io perché insisto con gli sforzi d'amore? perché e su questo è d'accordo ovviamente Steiner e tutti quanti perché c'è una legge universale che dice che le esperienze si trasformano in facoltà io faccio una cosa e diventa parte di me io faccio un esercizio col muscolo e questo diventa muscolo cioè aumenta il muscolo io amo e la mia essenza spirituale di amore ad ogni cosa che faccio aumenta è questo che ci hanno nascosto allora era possibile l'archetipo di Andreotti che io a Roma vedevo no? che la mattina si confessava si faceva la comunione tutte le mattine e lui era molto depotto no? e poi si sentiva tranquillo di fare le peggiori fedenzie durante il giorno ma arriviamo a cose molto gravi il peggio del peggio no? tanto lui si confessava il giorno dopo cioè questa è la lavanderina al gettone che ha messo sulla chiesa non facendoci sapere come faceva la chiesa giovannea che invece di mettersi in mezzo gli iniziati e loro lo facevano devono aiutare la gente a entrare in contatto direttamente col mondo spirituale ma quando è che il grado superiore entra nel grado inferiore quando il grado inferiore ha prodotto abbastanza liquido dell'amore e quindi quando io dico ed è l'esercizio fondamentale che faccio fare ai miei allievi e produce dei risultati fantastici fate un'azione d'amore al giorno o anche di più anche piccola purché sia veramente il bene dell'altra persona e non il vostro e purché sia uno sforzo quel piatto che non mi va di lavare e che so che ho un bene lo lavo lo stesso quel sorriso che non mi va di fare questo esempio lo fa anche Steiner del sorriso io non so gli steineriani che hanno letto perché le cose migliori di Steiner non le sanno proprio oppure non le capisco allora lui dice tu devi aumentare il tuo elemento etico quindi devi fare qualche cosa di buono per esempio dice se è buono sorridere a qualcuno sorridi e allora qualcuno mi dice dice lui ma io non posso fare un sorriso forzato e ci fallo gli diceva Steiner al terzo sorriso forzato diventa naturale perché tu sei cambiato questa è una chiave incredibile nella nostra epoca perché è proprio quello sforzo che produce il graal l'etere del graal che poi diventa parte di te che diventa pensieri più lucidi più forza di volontà e persino un sistema immunitario più forte questo è il segreto il futuro la gente anche non sapendolo se non la doverà il graal nel futuro ci sarà una razza che comincia a decadere anche fisicamente e un'altra quelli che amano che sarà meglio crescerà e sarà più forte allora Fausto questo mondo che ci sta crollando addosso e poi avranno anche loro le loro conseguenze al di là della lavanderia che possono antingere lì a Roma perché ce l'hanno lì a due passi quelli che sappiamo che ci comandano hanno la lavanderia lì pronta è quasi fallita è quasi fallita però in qualche modo questi qui sembrano che stiano bene hanno un sacco di speranza e via discorrendo dimmi dimmi poi ti correggo perché non mi è piaciuto quello che hai detto no no correggi pure mi sono perso un po' adesso dimmi dimmi tu hai detto ci stanno travolgendo ma sai qual è la realtà è che siamo noi che stiamo travolgendo loro per la prima volta nella storia e tutto quello che stanno che fanno facendo sono solamente risposte emergenziali ecco però scusa ti interrompo perché adesso mi hai ritornato il discorso facciamo queste diciamo così proteste queste manifestazioni però è difficile non incazzarsi e e non vivere magari così della rabbia o comunque dei stati di animo di rivendicazione in qualche modo quindi voglio dire bisogna stare anche attenti da questo punto di vista questa era una delle cose fondamentali di cui parlavo anche i miei allievi in questo parso perché non ti dico tra i miei allievi e tra quelli che sono venuti a queste conferenze quasi tutti hanno partecipato alle manifestazioni e si sono arrabbiati e anche io mi arrabbio abbiamo fatto bene però riflettiamo questa gente comunque va incontro al suo karma giusto? sì a meno non so se loro incrociando le dita dietro possono tirarsi fuori purtroppo purtroppo non gli funziona non gli funziona meno male noi questo lasciamolo fare al cielo perché se no potremmo anche essere autorizzati andare lì a sparargli con i mitra ma non funziona non funziona perché ci spareremmo noi sparando col mitra ogni arrabbiatura a loro non gli fa niente ma fa male alla nostra anima gli vogliamo dare anche questa soddisfazione loro hanno fatto una scelta già questi li freghiamo perché loro danno dei messaggi a quelli che stanno risvegliando fatti apposta per farli arrabbiare gli altri dormono non se ne accorgono a noi ci fanno arrabbiare apposta è una provocazione quindi dici è una continua provocazione allora ci sono due alternative o usi l'amore e diventi più forte nel farlo e più compassionevole anche per questi quattro disgraziati che pensano di essere potenti e tra qualche decennio saranno tutti dall'altra parte a vedere quello che è successo veramente quindi pietà e compassione o noi adocchiamo questo atteggiamento oppure ci abbiamo la scelta tra essere inoculati di vaccino o essere inoculati di odio e forse la seconda ci fa peggio della prima attenzione allora voglio dire una cosa in più io uso molto andare nelle vite precedenti da svegli coscienti con i miei per fargli vedere da dove vengono io mi sono reso conto che noi non stiamo sulla terra con lo stesso numero di vite c'è qualcuno che c'era qualcuna di più e sono quelli che stanno più avanti perché hanno fatto più esperienze e qualcuno che sta indietro la media dei grandi potenti della terra è 3 4 5 vite indietro rispetto alla media della terra sono dei sacri orientali dei funzionari dell'impero romano questo sono e lo fanno con quella intelligenza pensate quanto devono soffrire ancora di vita in vita fino ad arrivare un giorno veramente a capire ma scusa Fausto com'è che questi arrivano al potere allora voglio dire è una selezione al rovescio che viene fatta esattamente il cielo ha deciso che per farci svegliare la cosa migliore è non mandarci più re buoni e istituzioni buone guarda come funziona se noi avessimo avessimo solo re buoni funzionari buoni multinazionali buone banche buone e noi ci saremmo occupati solamente della vita piacevole certo allora è organizzato dal cielo il cielo ha mollato i poteri materiali a loro ma non da adesso ti faccio un esempio evangelico perché uno lo deve leggere bene il Vangelo le tentazioni di Satana e Lucifero lo porta in cima al Tempio appena arrivato subito dopo il battesimo del Giordano e gli dice guarda se vuoi questi sono tutti i regni della Terra se vuoi sono tuoi te li do che significa che erano tutti suoi o no certo noi abbiamo idea che le istituzioni sono quando Cristo si confronta con le istituzioni si confronta con Erode e con l'impero romano era già così è compilato a noi c'è nata l'illusione l'unico momento di libertà che c'è stato in Italia è stato fine guerra anni 50 o un po' di anni 60 col caso Moro si è chiuso tutto ha cominciato a chiudersi tutto e poi la Repubblica Romana e poi i medici fine fine della storia e guardate come sono stati attaccati tutti violentemente no? quindi io non dico rassegniamoci usiamole queste belle provocazioni viviamo serenamente anche questi momenti quanto durerà questo momento? in questi giorni tanti miei alliei mi chiedevano Fausto ma quando finisce questa storia io gli rispondevo ragazzi la scienza spirituale e la veggenza si adopere per il passato ma c'è un divieto per il futuro anche perché cambia quindi lasciamo per non facciamo le profezie però si può vedere come agisce il cielo io vedo un enorme risveglio di quel 30% con questa situazione c'è rabbia c'è un po' d'odio ma fondalmente non è totale e c'è un intensissimo scambio di informazioni di consapevolezza è come se questo gruppo si stesse consolidando e diventando anche più consapevole che esiste è obbligato a fare le proprie scuole parentali a organizzarsi questo è un momento di grande organizzazione del risveglio abbiamo 50 secondi Fausto allora questo è un momento del grande risveglio posso dire una cosa buona? si ma poi c'è lo stacopicitale ma poi resti ancora un po' con noi si un po' resto grazie quindi momento di grande risveglio usiamolo non ci abbattiamo facciamo cose la sola manifestazione serve solo a sentirci tra di noi ma non ci aspettiamo che il potere ci ascolti se no rimaniamo delusi tanto non ci ascolta c'è il 70% a disposizione noi scendiamo in piazza con 10 milioni di persone si infatti anche rispetto a manifestazioni oceaniche in Germania eccetera poi in realtà in effetti ma anche lì non sono la maggioranza esatto questa risposta è che noi tre secondi ci si interrompe eccoci eccoci allora si è appena finito lo stacco pubblicitario tu non sentivi no lo stacco pubblicitario sentivo tutto ah bene bene ecco allora Fausto Cartenuto noi vorremmo inviare quel bellissimo intervento che hai fatto quel messaggio non ci piegheremo che sembra un po' le invettive contro i farisei forse non lo so c'è un po' di sacra indignazione però ci sono pochi imbiancati ci sono pochi imbiancati ecco ecco allora ascoltiamo questo bel intervento che ci dai prego Corrado ok andiamo no non ci piegheremo alle vostre minacce volete sospenderci dal lavoro volete bloccare le nostre libertà di movimento volete annichilirci con la paura e poi offerci briciole di libertà esteriore noi vediamo chiaramente il vostro gioco per spingerci a perdere la nostra libertà ma noi non ci piegheremo alle vostre minacce state premendo l'acceleratore delle falsità e della repressione perché il virus si sta esaurendo o sta comunque diminuendo il suo impatto sulle persone avete visto che già la gente cominciava a non presentarsi più per le vaccinazioni avete visto che i riparti di rianivazione si sono svuotati e avete visto che il vostro bieco criminale trucco di non curare le persone per mandarli all'ospedale a morire invece di curarle bene a casa non funzionava più e allora avete lasciato lanciare dai vostri media schiavi avete lasciato che lanciassero un'offensiva isterica fatta di blandizie e di minacce contando sulle paure sulle ansie sulle debolezze ed immaturità di tante persone tante persone alle quali siete riusciti con la paura a mutilare pezzi importanti dei loro processi di pensiero a mutilare pezzi importanti di lucidità mentale pezzi importanti di forze di cuore instupidendoli con la paura oppressandoli in modo bieco e perverso con le minacce alla libertà e siete stati seguiti senza fiatare dal coro ipocrita di un mondo politico e di media che mai come in questi mesi hanno rivelato il loro vero volto di puri esecutori di una democrazia ridotta a finzione a vera e propria truffa di orribili poteri mondialisti nei confronti dei popoli certo la vostra azione perversa è pesante e minacciosa ma noi non ci piegheremo volete toglierci delle libertà esteriori e noi combatteremo per mantenerle ma se non sarà possibile manterremo e rafforzeremo ancora di più la nostra dignità umana e la nostra vera libertà che è la libertà interiore quella libertà interiore che è capace di vedere bene le vostre malofatte senza farsene trascinare quella libertà interiore non ce la potrete mai togliere e più ci perseguiterete più questa si rafforzerà e lo farà proprio per fare la differenza con voi schiavi di subdolementi nascoste nell'ombra noi non ci piegheremo di fronte alle vostre schiere di omuncoli burattini del potere non ci piegheremo alle vostre schiere di ciechi esecutori di oscure strategie antiumane compensati con il basso vile prezzo di denari e carriere anime comprate per tradire i loro fratelli gli altri esseri umani noi serenamente indignati vi diciamo che manterremo quella libertà interiore che voi non avete mai trovato perché l'avevate già svenduta sull'altare della vostra convenienza della vostra insipienza della vostra ignoranza della vostra supponenza del vostro gretto e ottuso egoismo voi resi talmente inetti dalle lusinghe del potere da essere tranquillamente capaci di avvelenare l'acqua della vita che voi stessi e di vostri figli bevete inconsapevoli certo lo sappiamo continuerete a metterci uno contro l'altro nei posti di lavoro nelle amicizie nelle famiglie come avete fatto in questo periodo e come state facendo ancora di più ma noi cercheremo di mantenere l'armonia ad ogni costo perché noi comunque amiamo la libertà e contrariamente a voi rispettiamo le scelte di chi non la pensa come noi anche se sono dettate da paure da immaturità dalle vostre minacciose pressioni e imposizioni noi non ci incinocchieremo né a voi né ai vostri idoli neri noi non tremeremo e risponderemo con la forza di una ferma ma quieta indignazione e con ragionamenti pacati intelligenti pieni di amore per quel genere umano innocente anche se abbondantemente dormiente che voi massacrate e sacrificate ogni giorno in nome del potere del profitto della corruzione dei vostri cuori e delle vostre menti e nemmeno ci faremo prendere dall'odio e dalla rabbia da quel veleno che i vostri padroni oscuri tanto amano immettere nei cuori proprio di chi si sta ritestando per impedirne il risveglio di coscienza no non ci costringerete ad odiarvi non ci costringerete a perdere quella libertà interiore che ci fa essere capaci di giudicare con serenità e fermezza proprio le vostre nefandezze non vi daremo la soddisfazione di rovinare di sporcare la nostra anima per voi più vorrete più vorrete limitare la nostra libertà esteriore più ci sentiremo liberi e capaci di vedere quanto è misera quanto è meschina la vita che ci offrite e la vostra stessa vita non spegnerete il tesoro che è nel nostro cuore e che un giorno sarà capace di trasformare questo mondo in un posto migliore nel quale voi non conterete più nulla perché verrete pesati in base alla purezza del vostro cuore a meno che il dolore dell'orribile karma che vi state costruendo non riesca a convertirvi al bene e non vi faccia finalmente ricongiungere e lo speriamo con l'umanità cosciente un'umanità che continua a crescere proprio rispondendo alle vostre furbe ma miopi trame ce la faremo ce la stiamo facendo basta che non ci facciamo travolgere da quei cattivi sentimenti che ci stanno inoculando se non ci vacciniamo rimaniamo liberi il più possibile fuori ma soprattutto dentro eccoci vediamo se riusciamo a recuperare lo Skype eccoci qua ci siamo ci siamo Fausto Quartenuto qui ho l'impressione che eri ispirato in qualche modo perché veramente è un appello è anche un jacuzzi in qualche modo molto stimolante che dice un po' tutte le cose e risponde un po' anche a Moreno che ci chiedeva ma questi qui non pagano mai il karma invece lo pagheranno anche loro insomma e poi c'è un altro messaggio che così ho piacere di leggerti dice buonasera grazie all'ospite per questa valanga di informazioni io mi chiedo spesso una cosa alla quale non trovo risposta capisco la depopolazione beh già se capisci io volevo chiederti anche sulla depopolazione ma non capisco come mai la si attui così fericemente nel mondo ebraico cioè una domanda che mi chiedo anch'io in Israele stanno arrivando la terza dose ma come mai il popolo che diciamo è più collegato diciamo al progetto mondiale stanno facendo questa azione che ha rischio di estinzione insomma con con queste sostanze che vengono iniettate io pronto che sia mi senti sì adesso sì che sia a rischio estinzione non lo credo gli studi che ho fatto sono di diminuzioni di forze eteriche recuperabili in chi si sveglia cioè quindi le sostanze che inoculano non creano morte come stagge creano problemi che vengono usati come karma dal mondo spirituale perché poi è sempre che il mondo spirituale non c'è il mondo spirituale adopera gli alberi contro i quali andiamo a sbattere con la macchina adopera i tradimenti della moglie i licenziamenti del capo ufficio adopera tutto come karma quindi adopererà anche i danni da vaccino ma con chi li adopererà non so se avete notato nelle stesse famiglie il covid uno ha preso un altro no non so se avete notato sì certo quindi c'è qualcuno che decide il caso lo scienziato il virus e no è il cielo che decide qui o adottiamo una visione spirituale della vita non casualista o altrimenti siamo schiavi del caso quindi quello che ho visto dal punto di vista dei corpi sottili non parla di una distruzione dell'umanità anche perché siamo cominciando a svegliarci e il cielo ci lascia andare nelle camere a gas non avrebbe senso anzi questo momento io insisto sempre controcorrente lo vedremo nei prossimi anni come una tappa di risveglio forte quindi questa depopolazione che viene detta un po' da tutte le fonti anche da persone molto stimabili e molto anche attendibili dici che non è insomma quel personaggio che ha quel nome greco che si nutre di zuppa di colibri e lingue d'alce che parla di questa 95% dell'umanità che sono mangiatori inutili ma sono sempre scienziati materialisti che giustamente fanno emergere un problema che esiste ma che questo porti alla fine dell'umanità non lo decide Montagné non lo decide nessun altro l'aumento di etere chimico già da solo provoca più trombi perché etere è strutturante e si vede pericarditi alterazioni del sistema immunitario ma guarda caso non in tutti quindi il cielo non vuole buttare via l'umanità che sta crescendo questa è la storia e nessun male viene consentito che non sia per produrre un bene alla fine che è il risveglio di coscienza questo è popolo ebraico ma chi l'ha detto che il popolo ebraico è alla guida del sistema mondiale di potere non è mica vero non è vero cioè che ci sia della finanza che è fatta da famiglie ebraiche bene c'è ma da chi dipendono quelle famiglie ebraiche non da ebrei perché nel livello superiore a loro non c'è la dimensione naziale e non c'è nemmeno quella religiosa e non c'è nemmeno quella nazionale quindi siccome c'è questa voglia di avere sempre come vittime il popolo ebraico qual è il risultato di questo aver maltrattato il popolo ebraico qual è il risultato è che è venuto fuori uno stato di israele che è malcondotto che è cattivo anche con i suoi io li ho frequentati io ho visto ho conosciuto Sharon che uscì che durante la campagna di guerra in Libano che avevano appena fatto il massacro di Sabre e Shatila e quando li ho visti in una colonna militare erano uguali ai nazisti uguali vittime questo popolo come altri popoli loro ancora più vittime perché sono stati messi in un frullatore di bene e di male ma ci sono degli elementi della cultura ebraica che sono incredibilmente elevati quindi non si può fare di tutto buon fascio non c'è nessun popolo che è peggiore un altro ce n'è qualcuno che è un po' più addormentato degli altri come per esempio quello americano o per altri versi quello cinese e che sono più facili da adoperare per i poteri oscuri ma non si può gettare il discredito su un popolo questo non è consapevole non è cosciente leggo così qualche altro messaggio ce ne sono tanti però dobbiamo selezionarli un po' c'è Eugenio che ringraziamo dice grazie per queste bellissime parole piene di consapevolezza amore e speranza penso si riferisce all'intervento che abbiamo mandato in onda del tuo messaggio e poi c'è Rosaria che ringraziamo che dice fa un bel messaggio lungo dice buonasera che meravigliosa trasmissione un ringraziamento a Corrado per la bella introduzione al tema affascinante del Graal i miei complimenti al vostro ospite caro tenuto riguardo la frase da lui detta la società antroposofica paragonabile alla Chiesa in questo momento storico e del fatto che molti antroposofi seguono le linee guida del nuovo ordine mondiale riporto quanto scritto in una rivista da Jasmine Peschke coordinatrice per la nutrizione nella sezione agricoltura del centro spirituale agricoltura biodinamica presso il centro congressi dell'antroposofia Dornac di Rigolette come possiamo mantenere un atteggiamento positivo come possiamo restare in salute in questa situazione come possiamo rafforzare corpo e anima certamente è fondamentale adottare tutte le misure contenitive come uso della mascherina rispetto alle distanze no comment eccetera puntini puntini no comment grazie anche a te Elio e Rosaria grazie del bel messaggio che ci dà un po' da pensare la portavoce europea dell'associazione antroposofica per la parte salute è un'amica di Melinda Gates ah io sveglia sì sì nel momento se io dovessi dare una definizione precisa di Dornac e lo dico anche spiritualmente è il nuovo castello dell'antigraal ah questa è un'espressione molto forte ma non è ancora il castello di Kling complicata e Luca ci chiede ci chiedeva una cosa un po' tecnica magari due parole forse tu le puoi dire e dice il signor Cartenuto può dire cosa servono i tamponi oltre alla ghiandola pineale possono servire ad altre cose cosa fare per diminuire il danno del tampone cioè cosa c'entrano i tamponi con la ghiandola pineale forse perché si riferisce al fatto che vengono inseriti molto profondamente nel naso e si avvicinano alla zona della ghiandola pineale io credo che forse si riferiva a questo sì ma insomma prima di arrivare alla ghiandola pineale ce ne vuole ci vuole il trapano perché c'è questa cosa che gira che arriva a toccare il cervello è lo soffizio di tutto purtroppo i latini dicevano dicunt ma noi ci possiamo a tenere al dicunt al dicono dunque c'è nel nostro parliamo tecnicamente dal punto di vista scientifico spirituale noi abbiamo il sesto chakra che è fatto di due petali uno sono le qualità del pensare terreno e le altre sono le qualità del pensare divino è l'intuizione quindi spesso quel petalo è un po' acciaccato che succede? ci siamo? sì 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 dal punto di vista fisico-eterico le nozze intuitive tra questi due elementi sono le nozze tra ipofisi ed epifisi l'epifisi aperta al cielo e l'ipofisi è il punto psicofisico di congiunzione massimo dell'elemento umano quindi le nozze mistiche dal punto di vista fisico sarebbero ipofisi epifisi però qualcuno ci gioca sull'epifisi quindi qualcuno si è accorto che ci può giocare chimicamente e ottenere dei risultati e quindi sono dei medici fuori di testa perché materialisti che hanno visto che la cannabis e insomma fa dei buoni effetti sull'epifisi diciamo che la confonde però anche se la attiva quindi attenzione stiamo parlando di elementi che sono fisici diciamo che sono una sorta di neurotrasmettitori o di trasmettitori di qualcosa di più elevato non è l'epifisi in sé la cosa è un recettore di elementi più elevati così come l'ipofisi Elena ci chiede buonasera grazie per il programma voglio chiedere all'ospite cosa ne pensa del ruolo della meditazione in questa fase di risveglio grazie grazie Elena io dico in termini molto semplici o mediti o ti risvegli o ti o ti risvegli addirittura sì perché risvegli attraverso le azioni amorose e le fai meditando allora mettiamo le cose in fila la vera meditazione non è l'astrazione l'astrazione il distress serve quando sei stressato come farsi una doccia mi rilasso perché mi devo rilassare per rilassarmi mi devo rilassare per essere più lucido per agire per amore perché noi siamo qui solo per agire per amore non per meditare se dovevamo meditare si faceva molto meglio a casa nostra in cielo qui siamo per agire e se non agiamo i problemi di famiglia i nostri di lavoro ci vengono incontro ci vengono incontro comunque e noi abbiamo la scelta tra stare male e produrre problemi non agendo per amore o intervenire in questi stimoli in queste provocazioni per crescere e aiutare gli altri a crescere ma scusa Fausto posso farti una domanda un po' provocatoria allora tutte le meditazioni mantra che Ludo Steiner adattano 6 esercizi eccetera anche no non servono più secondo te è l'essersi concentrati su quelli che è una deviazione profonda Steiner mi ha letto tutto e lui diceva lo dico ai miei amici scaligeriani e tutti gli altri gli dico ma poi la frase che ha detto Steiner tre o quattro passi nell'etica e uno nel percorso esoterico ve la ricordate o no quindi fate la concentrazione la meditazione gli esercizi allora fate un'ora di esercizi dovete fare almeno tre o quattro ore di buone azioni altrimenti non servono a niente anzi vi dirò fanno male vedo menti di antroposofi sclerotizzarsi perché pensano che loro sono già abbastanza amorosi ma nessuno è mai abbastanza amoroso siamo tutti sulla soglia della prossima azione amorosa perché noi cresciamo solo così solo superando con sforzo amoroso quello che ancora non siamo riusciti a fare prima questa è la nostra vita e in questo modo si arriva al graal insomma che dicevi prima il resto sono palliativi è come dire oggi mangio uso un po' d'aceto e un po' di olio ma pure il sale va e che ti mangi e no ma io mi piace l'olio e il sale e la sostanza è la stessa storia bella questa immagine molto efficace c'è un messaggio di Stefano che ringraziamo però apre un fronte nuovo ma lo buttiamo lì poi chiaramente l'argomento è un po' così diverso da quello che stiamo trattando dice complimenti al pensiero cristallino di Fausto a proposito di karma come dobbiamo considerare gli uomini senza io di cui parla Steiner e vengono denominati uomini locusta nell'apocalisse questi esseri sono al capolinea delle esistenze come si può parlare di karma forse sono proprio questi individui privi di coscienza ad essere al potere vuoti di io ma zeppi di entità rimaniche grazie Stefano questo ha a che fare con quello che dico prima qualche mio amico pubblicò questo articolo anche molto amico sugli uomini locusta ma uno non può scrivere adesso gli articoli su quello che scriveva Steiner cento anni fa questi gli esseri che producevano questi cose questi elementi erano quegli esseri di asurici di cui vi parlo prima quindi gli uomini locusta che hanno girato abbondantemente al tempo di Steiner sono morti dopo la seconda guerra mondiale il numero degli uomini senza io è un centesimo di quelli che c'erano prima perché io mi sono stufato di vedere gente che va in tiro cercando negli occhi di Draghi o di qualcuno l'uomo locusta quello è solo un uomo che sta 4-5 vite dietro di noi è un poveraccio è tanto più poveraccio quanto pensa di avere il potere ma lui lo sa che non ha alcun potere e che è solo amministratore dei suoi capi quindi di che parliamo cioè non si può fissare il presente solo sulle basse delle letture del passato non è possibile non si capisce niente posso posso farti una domanda io Fausto caro tenuto perché la grossa parte della popolazione non si pone domande c'è come una malattia nella testa delle persone che non vogliono cercare la verità o c'è una pioggia spirituale avversa che come dire bagna di non muovere così questo spirito questo pensiero diciamo così critico se si può dire comunque questa dinamica del porsi domande da proposito del Parsifal è ancora nella prima fase del cammino di Parsifal e allora il cielo fa in modo che forze oscure creino selve oscure in modo che un altro po' di gente si sveglia di volta in volta quindi la realtà è che tutti hanno bisogno del loro spazio di errore per crescere quindi non sono in una fase sbagliata quelli che ancora sbagliano e anche noi in parte sbagliamo non siamo in una fase sbagliata l'errore umano è voluto dal cielo perché dopo un errore viene la domanda il dubbio e poi la crescita tua altrimenti tu fai solo quello che ti ha detto sempre qualcun altro Parsifal quando arriva così parliamo di Parsifal quando arriva alla corte di Rertù perché gli sembrava che la cosa più bella fosse andare alla corte di Rertù che era un iniziato antico e che insegnava e riceveva dal cielo gli insegnamenti e non da se stesso arriva col cavallo entra col cavallo dentro la sala del trono e il cavallo ha il pensiero quindi non scende dal suo pensiero libero e quando il re non se ne cura se ero preoccupato gira il cavallo e gli butta con la muslo del cavallo per aria la corona noi abbiamo bisogno di buttare per aria la corona degli insegnamenti precedenti di quello che viene fuori e fare l'errore quanto basta è l'errore l'insegnamento poi un giorno si impara a morire al proprio se stesso sbagliato e quello che finisce in croce è la croce della nostra vita perché è l'unico modo per risorgere con le nostre forze quindi io l'umanità che sbaglia la vedo con compassione mi fa arrabbiare ma con compassione e con grande attesa e con grande speranza e tutte le persone che incontro le considero dei terreni nei quali forse si può cominciare a piantare qualcosa bello bello grazie grazie Fausto di queste parole e di queste evocazioni leggiamo un ultimo messaggio e poi magari perché già ci stai dando molto del tempo che già avevi limitato e dice pensavo fosse il vaccino poter chiudere i petali solo il vaccino solo il vaccino invece mi pare di capire che anche il covid in sé può farlo unica soluzione è rafforzare l'amore la famosa goccia di amore al giorno attenzione il vaccino così come il covid non è che proprio chiude i petali li mette perché i chakra i petali sono a metà tra il mondo eterico e a metà tra il mondo astrale quindi sono le qualità dell'anima e le forze vitali insieme in ogni peta quindi abbattendo le forze vitali di un petalo tu crei anche un po' di problemi a quella qualità animica il vaccino colpisce il quarto chakra due petali in particolare e quindi toglie forze a un petalo che è il petalo che sarebbe dell'imperturbabilità di cui parla anche Steiner quindi la gente diventa più turbata non so se avete notato perde l'equilibrio interiore questo si nota in tutti e questo provoca un danneggiamento ad un altro petalo del cuore sempre del quarto chakra che è il petalo dell'amorosità è il petalo del non essere egoisti il petalo dell'essere verso gli altri e io descrivo questa chiusura provocata dal vaccino come immeschinimento del cuore quindi gente spaventata gente squilibrata ho visto equip mediche che non riuscivano più a coordinarsi per fare un'operazione ho visto cuochi in una cucina che non riuscivano più a tenere l'equip insieme e a fare un passo normale dopo il vaccino dopo il vaccino si si poi dopo un po' diminuisce ma se tu non ci metti forze d'amore non riprendi mai completamente il tuo equilibrio adesso pensate un po' di gente che conoscete in giro e vi accorgerete che questo è quello che succede allora Fausto che ho ritenuto io penso che tu ci devi lasciare perché ci hai dato abbondantemente più del tempo che ci avevi detto vuoi darci magari non non le inventive ma anche se ci fanno molto bene no speranza un messaggio così di questo bel lavoro che ci hai portato questa sera io ho notato una cosa gente che si riempie d'amore gente che lo fa anche naturalmente nella vita difficilmente è stata colpita dal covid qualcuno lo è stato comunque per karma ma di massa meno perché il suo sistema immunitario è più forte e quindi anche meno danneggiato dal vaccino quindi amiamo il nostro cuore sarà più forte saremo migliori e anche più forti per il futuro e per il presente questo è il segreto del Graal grazie 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 tantissime il vostro cuore tenuto ti hai dato questa possibilità di fare questi approfondimenti e questi stimoli così interiori che uno poi li deve coltivare interiormente e portarli poi in azione insomma quindi è un dono importante che ci dai grazie ancora speriamo tra qualche tempo che tu sarai ancora disponibile di essere con noi e ti auguriamo buon tutto non so se vuoi darci un aggiornamento delle attività così importanti già ci hai accenato un po' prima che stai facendo col tuo lavoro e non lo so corso fondamentale che si chiama dello sviluppo dei talenti che dura due anni e sono nove seminari in questo momento pensate sapete qual è la regione più sveglia d'Italia? il Veneto certo addirittura non avrei detto sì ma voi guardate le maggioranze che in Veneto dormono proprio profondamente ma guardate quanto risveglio c'è ma c'è lo Zaya sta in Veneto quindi io ho famiglie intere che prima viene uno poi viene il nonno poi viene il nipote lo zio così arriviamo a 500 perché? perché la pratica della spiritualità migliora praticamente la vita e non ci mette nemmeno tanto tempo a farlo si vedono i risultati non servono anni e anni di studio servono anni servono settimane e mesi d'amore bellissimo bellissimo quindi dopo questa cosa qui ho un master sulla salute che rivede la medicina la rivolta da capo quindi vedo l'effetto sui chakra delle malattie delle cose come curarle dal punto di vista spirituale e uno sull'arte che è importantissimo come ricominciare a fare arte veramente perché faccia l'effetto del Parsifal nel migliorare i cuori delle persone come fatto storico proprio benissimo grazie grazie ancora e ti auguriamo un buon tutto per tutto il tuo importante lavoro e così un abbraccio di luce se posso dire esatto ok grazie grazie buona serata ecco allora torniamo mettiamo su un po' di musica ringraziamo ancora Fausto Cartunuto che è stato con noi ben un'ora e mezza che inizialmente doveva essere solo un'ora e quindi è stato veramente generoso gentile sì facciamo un po' di musica allora questa qua celtica proviamo sentiamo andiamo sul mondo celtico chiamo in tema sì grazie a tutti e torniamo in diretta ancora un grazie forte a Fausto Carotenuto diciamo che tutto il lavoro che ci ha portato anche un po' sconvolgendo un po' quelli che sono i nostri concetti esatto, ha detto delle cose molto forti contro la società antroposofica e così anche questo aspetto comunque importante questa esortazione a fare queste azioni di bene, sì che indubbiamente fanno lavorare il chakra ci sono proprio degli studi a parte, a prescindere da quello che ha detto Fausto ci sono proprio degli studi psicologici dove hanno riscontrato che le persone che svolgono delle reali azioni filantropiche ma non del tipo Bill Gates, però proprio delle reali azioni concrete di aiuto che queste azioni fanno proprio bene sia la psiche ma anche il corpo fisico quindi ci sono anche proprio degli studi su questo certo, mi viene in mente poi i bravissimi medici che hanno curato le persone a casa che solo questo dovrebbe fare crollare questo castello di menzogne di questi morti di questi ricoverati in terapia intensiva quando hanno dimostrato che si può benissimo curare questa infezione virale con le opportune medicine che sono poi state boicotate e boicotate poi da questa azione criminale della vigilantesa tachipirina e ricordo tra i tanti medici il Fabio Milani anche lui radiato che andava a casa delle persone anche non suoi assistiti e li abbracciava senza tutti gli scafandri ma proprio a corpo nudo si può dire quindi lui proprio questo ettere sconfiggeva diciamo l'infezione esatto questo ettere del graal ecco e quindi un po' queste esortazioni e questi come dire stimoli che Fausto Carottenuto ci ha dato sono da elaborare da coltivare da pensare e quindi io non mi sentirei di commentare no assolutamente se tu sei d'accordo Corrado visto il bel lavoro che così hai preparato sarebbe interessante chiudere poi questo tuo escursus più storiografico e più di riferimenti anche così stimolati dalle conoscenze della scienza dello spirito rispetto a queste correnti del graal la corrente di Rertù e la corrente del graal se tu vuoi parlarci un po' che sono due correnti diverse che però si cercano diciamo e allora io cioè per spiegare un po' questa differenza tra la corrente di Rertù e la corrente del graal io partirei dal fatto che per esempio sono sempre rimasto molto colpito dal fatto che l'Irlanda quando crollò l'impero romano divenne subito un centro di cristianesimo e questo stona un po' se noi molto lontano da Roma esatto esatto e quindi uno si chiede ma com'è possibile che questa isola così remota al nord dell'Europa che appunto si ritiene fosse sottosviluppata diventi un centro di cristianesimo così potente perché durante il Medioevo la parte principale della cristianizzazione dell'Europa è proprio stata svolta dall'Irlanda e Rudolf Steiner ci spiega che questo fatto è avvenuto perché in realtà in Irlanda è ancora prima dell'avvento del mistero del Golgotha del cristianesimo quindi l'Islanda cioè l'Irlanda scusate era un grande centro misteriosofico dove venivano coltivati diciamo i misteri di Bernia perché Bernia è l'antico nome dell'Irlanda e la cosa interessante è che questi misteri di Bernia si fondono con il popolo celtico perché appunto il popolo celtico si trova appunto nell'Europa occidentale e del nord e quindi diciamo il popolo celtico ha assorbito posso chiederti i Bernia questo nome ha qualche origine sai da dove deriva dunque era il nome che gli antichi romani davano all'Irlanda adesso etimologicamente non so perché loro abbiano scelto questo nome però Rudustani chiama i misteri irlandesi i misteri di Bernia questi misteri hanno profondamente si sono sedimentati profondamente nel diciamo nei corpi eterici nel sentire del popolo celtico e questo lo vediamo proprio storicamente per il fatto che la vera roccaforte del cristianesimo non sono diventati i popoli dove il cristianesimo è è sorto tipo la Palestina la Turchia eccetera dove il cristianesimo agiva più a livello anche intellettuale dove c'era anche una cultura intellettuale del cristianesimo però proprio i popoli celti tipo l'Irlanda la Francia sono diventati le vere roccaforti del cristianesimo del cristianesimo e di fatti da lì è poi partita l'azione di conversione verso le tribù germaniche tipo i Longobardi i Sassoni eccetera che all'inizio non erano erano ostili al cristianesimo di fatti i romani ma anche i monaci irlandesi hanno avuto ha dovuto combattere lavorare molto nei confronti dei Sassoni perché per loro era molto difficile accettare il cristianesimo c'erano anche lì i monaci guerrieri un po' come i templari sì non erano guerrieri erano monaci però sono riusciti a convertire i Sassoni e i Longobardi eccetera hanno svolto un'azione insieme erano quasi due cristianesimi diversi esatto che magari corrono il rischio di contrapporsi ma in realtà potrebbero benissimo essere complementari in qualche modo no ma di fatti lo sono quindi diciamo questo cristianesimo dell'Irlanda diciamo si può anche chiamare la corrente di Artù mentre il cristianesimo che viene dal meridione ok si può in un certo adesso sto semplificando perché le cose stanno anche un po' più complicate però in un certo senso si può chiamare il cristianesimo del Graal che è un cristianesimo che agisce più nel sangue nell'interiorità degli esseri umani mentre il cristianesimo di Artù diciamo la corrente di Artù è qualcosa cioè che agiva più nella percezione del mondo degli elementi del mondo della natura di fatti proprio dal nord abbiamo tutte le leggende degli esseri elementari eccetera tutte queste cose qua è proprio tipico del mondo del nord da un'impressione anche di vitalità di freschezza sì sì esatto proprio di energia rispetto più a una cultura beh c'è tutto il lavoro di Paolo che ha diffuso il cristianesimo meridionale sì 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 certo sì e quindi diciamo così queste due correnti a un certo punto si incontrano sì Rudolf Stane dice che si incontrano nell'anno 869 proprio nella nella figura di Parsifal perché Parsifal era un cavaliere di Re Artù però diventa il re del Graal e quindi nella sua persona queste due correnti si incontrano diciamo e quindi lui è quello che le fa confluire ecco diciamo come ci diceva Fausto Carro Tenuto poi tutta la mitologia del Graal e tutti questi personaggi sono diciamo così realtà del mondo animico interiore no sì che lì diciamo così è un'altra un'altra ottica si guarda il fenomeno da un altro punto di vista allora diciamo che questi quattro autori da cui siamo partiti che hanno cominciato a raccontare queste vicende del Graal hanno avuto questo impulso e poi tutto tutto l'aspetto di questi cavalieri della tavola rotonda qualche elemento che puoi dirci in questa realtà sì beh lì abbiamo proprio l'immagine della tavola rotonda quindi è lo zodiaco lo zodiaco quindi è proprio qualcosa di che ha a che fare con la conoscenza stellare ecco però lì nella nella tavola rotonda di Re Artù che c'è anche proprio un luogo fisico sulla terra Rudostone dice che questo cioè questa tavola rotonda si trovava proprio a Tintagel che è in pratica questa specie di isola proprio attaccata alla costa della Cornovaglia del nord della Cornovaglia dove c'è un castello dove ci sono attualmente le rovine di un castello e lì si trovavano questi iniziati e lì c'è un confluire particolarissimo di di luce solare di venti e di onde che si infrangono sugli scogli che fanno un incontro particolare di esseri elementari e questi iniziati osservando i fenomeni atmosferici riuscivano riuscivano a percepire le forze del Cristo che dopo il mistero del Golgotha si era effuso sulla terra perché Ruto Stani dice che quando è avvenuto il mistero del Golgotha l'unico luogo sulla terra su tutta la terra dove il mistero del Golgotha fu percepito fu proprio in Irlanda e questo è un fatto molto interessante diciamo cioè gli iniziati all'interno dei loro templi in Irlanda quando avvene il mistero del Golgotha lo percepirono e furono gli unici in su tutta la terra a prescindere dalle persone che hanno lì in Palestina i discepoli del Cristo gli apostoli eccetera c'erano questi apostoli e poi in Irlanda gli unici due luoghi dove si percepì il grande il mistero centrale di tutta l'evoluzione della terra ecco stavo pensando la linea della sacra dell'arcangelo Michele non arriva però parte proprio dall'isola di Schelling che è proprio quest'isola che c'è lì in Irlanda e poi arriva l'isola di San Michele in Cornovaglia poi arriva all'isola di San Michel Mont Saint Michel nel nord della Francia e poi arriva la Sagra di San Michele da noi in Piemonte e poi giù nel Gargano Gargano sì poi verso l'Oriente insomma sì in Libano mi sembra che finisce una roba del genere sì come di Oriente e quindi c'è anche questo collegamento del Micheliano diciamo così tra i due cristianesi sì 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 perché sono tutte e due correnti Micheliane quella del Graal e quella di Artù quindi oltre a quello che ci diceva Fausto di fare questo lavoro così diciamo d'animo e anche di fisico però anche queste immagini queste conoscenze così che adesso tu ci hai condiviso creano un po' queste vocazioni queste immagini che anche queste nutrono un po' sì diciamo che sono considerazioni che diciamo stimolano il pensiero perché cioè noi una cosa che io trovo interessante noi dobbiamo compiere queste opere di bene ok però se ci pensiamo per fare il bene dobbiamo anche pensarlo cioè se io voglio telefonare mia zia che sta soffrendo di solitudine non posso prendere il telefono così e chiamarla di punto in bianco devo anche pensare prima a questa azione prepararla anche bene perché questo buonismo voglio dire siamo stati retriti questo buonismo che però non è consapevole esatto bisogna portare anche questa compievolezza nel fare il bene io preparo quello quando telefono mia zia voglio preparare prima magari anche delle cose da dirle perché altrimenti le telefono e dico ciao zia sì sì come stai bene come sta il tempo lì ah bene così c'è è una conversazione senza contenuto invece dobbiamo compiere mettersi nei panni dell'altro che vuoi aiutare lo fai attraverso anche così magari gli do anche degli stimoli ecco spirituali ovviamente l'esortazione che fa Fausto è importante perché noi abbiamo il rischio di diventare di testa no tutta la nostra cultura tutto il discorso della digitalizzazione dell'informatizzazione eccetera ci porta a stare seduti e a lavorare soprattutto con i sensi diciamo così esteriori c'è un messaggio di Fabrice che ringraziamo dice ciao Elio e Corrado condivido totalmente quanto espresso da Fausto non solo in via teorica ma per esperienza vissuta e viventa ecco come vedi esatto quindi diciamo testimonia proprio che funziona quello che esatto si compiere opere buone insomma bene io direi che siamo quasi indirittura ad arrivo magari chiudiamo con così una musica dando il saluto poi comunque ritorniamo dopo le nove per leggere gli annunci della radio e per darvi il saluto finale bene allora ascoltiamo un po' questa bella musica la Bulgarian National Radio Children's sentiamo voce cosmica anche dalla Bulgaria bene 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 bene